Buongiorno, benvenuto a tutti i presenti, a coloro che sono in collegamento in diretta streaming. Oggi è un importante argomento oggetto di questo convegno, la riforma cartabia in materia penale. Ringrazio il vicepresidente Irma Conti, i consiglieri Vincenzo Comi e Marco Lepri per aver organizzato questo convegno. Ringrazio anche gli illustri relatori che sono qui presenti, la dottoressa Paola Roia, presidente dell'ottava sezione penale del Tribunale di Roma, la dottoressa Paola Della Vecchia, magistrato dell'ottava sezione penale del Tribunale di Roma, l'avvocato professor Pietro Pomanti, che è responsabile della formazione specialistica della Camera Penale di Roma, l'avvocato Cesare Gai del Foro di Roma e siamo in attesa anche del professor Giorgio Spanger. Eccolo, ecco, che si è materializzato. Siamo valorati. Buongiorno, professore. Dicevo, la riforma cartabia è un argomento di grande attualità. La riforma si prefigge l'obiettivo di implementare l'efficienza della giustizia penale, addirittura in una rosa previsione si ritiene che, si riteneva che, se dovesse accelerarsi la definizione dei processi penali, nel 2026 si dovesse ridurre di un 25% la durata. Io auspico che sia così, però come ho detto anche in precedenza, forse prima di procedere a una riforma di carattere processuale, si doveva procedere a una riforma di carattere ordinamentale, perché attualmente sappiamo qual è la situazione, lo scoperto degli organici nell'ambito della magistratura, del personale amministrativo. Va anche definito e forse ottimizzato quello che è il sistema telematico. E proprio ieri, nel corso di una riunione che abbiamo avuto con i vertici dell'autorità giudiziaria penale, insieme al Presidente della Camera Penale, l'Avvocato Scalise, sono emerse delle criticità di non poco conto e che francamente, lo dicevamo prima con Gaetano, ci hanno estremamente preoccupato. Tra l'altro anche alcune modifiche importanti, di cui alla riforma Cartabia, stentano a trovare attuazione. Ad esempio anche i magistrati che sono destinati nell'ambito dei ministeri, che potrebbero forse essere utilmente utilizzati nell'ambito della giurisdizione e credo che sotto questo profilo la riforma Cartabia ancora non stia trovando attuazione, come sotto tanti altri profili. Quindi benvenga questo convegno per i necessari approfondimenti. Sicuramente ci saranno degli importanti spunti di riflessione, quindi non voglio sottrarre tempo agli illustri relatori. Auguro buon lavoro, mi scuso fin d'ora, se fra un po' dovrò allontanarmi per impegni istituzionali. Grazie Presidente, grazie al Presidente Nesta, che è qui e lo ringrazio davvero per aver inaugurato questo ciclo di incontri sulla riforma Cartabia, questo è il primo. Ringrazio tra l'altro i consiglieri Vincenzo Comi e Marco Lepri, che mi hanno il privilegio oggi di moderare questa giornata, che è uno dei tre incontri che faremo. E ringrazio soprattutto le eccellenti e gli eccellenti relatori. Cominciamo quotidianamente ad affrontare nelle aule di giustizia i problemi applicativi e operativi della riforma Cartabia, dalle notifiche, dalle verifiche delle notifiche che sono cambiate, a problemi di depositi di impugnazione fuori sede, visto che è stato abrogato il 164, il Professor Spanger lo sa, ne abbiamo parlato di recente, quindi è abrogato l'ufficio impugnazione fuori sede fisicamente, ma non anche quello del deposito delle copie. insomma sono tanti. Noi sicuramente da avvocati affrontiamo con coraggio, come abbiamo sempre fatto, le sfide che ci si pongono dinanzi. Abbiamo affrontato quella della pandemia, ora però con uno spito certamente da ottimista, quale mi contraddistingue, con ottimismo che mi contraddistingue, ma anche il realismo a cui faceva riferimento prima il Presidente Nesta, non può essere una riforma a costo zero. A partire dall'organico, che è carente, non più, mi sembra di aver capito, a livello di amministrativi, ma a livello proprio di magistrati, e quindi rintrodurre, aumentare, consentirci di svolgere la nostra funzione di rango costituzionale, quella della difesa dei diritti e delle libertà, e quella della giustizia, dinanzi a me abbiamo oggi veramente l'eccellenza della magistratura, la stima è veramente senza misura, consentire loro di fare però, di svolgere la loro funzione nel modo più adeguato e nel contesto che una questione così primaria richiede. Adesso senza indugio, quindi ringrazio il Presidente e passo da solo per un indirizzo di saluto, perché poi ci dovrà allontanare, e lo ringrazio per essere qui, il Presidente della Camera Penale, Gaetano Scalise. Prego. Grazie Irma, buongiorno a tutti. Sì, il mio indirizzo di saluto è forse anche un inizio di riflessione su questa riforma cartabbia, che obiettivamente è una riforma di sistema, quindi una riforma che coinvolge molti aspetti del nostro codice di rito. Non entrerò molto nello specifico della riforma cartabbia, perché altrimenti il Professor Spangere poi mi dà un voto, come ha fatto in precedenti convegni, e quindi già due convegni sono stati sotto la scura del Professor Spangere, e quindi evito di aggiungere danno a quello che ho già fatto. Però qualche riflessione va fatta. Dicevo una riforma di sistema, una riforma che però forse trova ancora impreparati gli uffici, perché diceva prima il Presidente Nesta, ieri abbiamo avuto questa riunione in Corte d'Appello, obiettivamente le problematiche pratiche, anche da un punto di vista informatico, sono rilevanti, e bisognerà porre rimedio a molti processi che vanno cambiati, e non sarà semplice farlo, perché di solito le modifiche si facevano con un'apertura di un ticket, per cui poi gli addetti alla manutenzione in qualche modo risolvevano il problema, qui molte cose sono da risolvere in modo sistematico e in modo anche importante. Pensate un po' all'applicazione delle pene alternative, pensate al dispositivo che può essere un dispositivo che prevede, anzi un giudizio, un numero di processo che prevede, un giudizio abbreviato per un imputato, una messa alla prova per un altro imputato, un patteggiamento per un terzo imputato. Ecco, questo sistema abbiamo scoperto ieri, io e l'Avvocato Nesta, non consente di rubricare tre sentenze con lo stesso numero, e quindi questo oggi potrebbe avvenire, prima si faceva uno stralcio a monte e sullo stralcio si operavano le sentenze, oggi potrebbe avvenire nello stesso processo che in quell'udienza vengono decise tre situazioni completamente diverse, quindi dicevo una problematica che anche da un punto di vista tecnico sarà importante affrontare. Per quanto riguarda l'impianto della legge, noi penalisti, l'Unione delle Camere Penali e anche la Camera Penali di Roma è stata critica sotto molti aspetti di questa normativa. Pensate all'appello dell'imputato assente che il cui difensore deve avere per forza la procura speciale e l'elezione di domicilio. Adesso se questo non avviene in studi organizzati come quello del Presidente Nesta, certamente questo può creare dei problemi invece ad un difensore d'ufficio che ha visto forse l'imputato la prima volta e poi lo perde nel corso del tempo. La Camera Penale di Roma ha investito di questa problematica il Consiglio dei Presidenti dell'Unione delle Camere Penali. Noi stiamo per mandare una lettera a tutti gli associati invitandoli comunque ad impugnare anche senza procura e senza elezione di domicilio e manderemo adesso anche una bozza di una eccezione di incostituzionalità della norma che abbiamo preparato e poi naturalmente ognuno potrà integrare come meglio crede sotto diversi aspetti. So che il professor Spang non è molto d'accordo su questa nostra iniziativa però crediamo che questo possa essere un modo anche per sollecitare una riforma che già l'Unione ha sollecitato. L'Unione ha stabilito tre giorni di astenzione nel prossimo mese di aprile proprio perché tutte le modifiche che sono state proposte e tutte le azioni che il Ministro si è proposto di fare in tema di giustizia hanno avuto un evidente rallentamento tutti voi leggete i giornali e quindi sapete bene le cose. E di oggi la notizia che finalmente è stato aperto al Ministero il tavolo tecnico che vede seduti in questo tavolo i rappresentanti dell'Unione delle Camere Penali e insieme con i rappresentanti della Magistratura e del Ministero e il tavolo è stato denominato tavolo tecnico di consultazione per la riforma del processo penale e speriamo che da questa consultazione tra avvocati, magistrati e magistrati addetti anche al Ministero si possa in qualche modo cominciare a fare delle modifiche che peraltro la legge prevede che possano essere fatte sui decreti attuativi nei due anni dalla loro entrata in vigore delle modifiche che in qualche modo ci rendano meno difficile la vita e rendano anche forse meno difficile la vita dei giudici che devono applicare questa riforma. Quindi come vedete i temi sono molti e molteplici quindi io credo che benvengano tutti questi convegni che noi stiamo organizzando sulla applicazione della legge sullo studio tutti quanti insieme di questa nuova legge che è entrata in vigore e quindi credo che queste riflessioni siano assolutamente utili per cercare di orientarci meglio tra le pieghe di questa riforma che ripeto è una riforma di sistema. Quindi vi auguro buon lavoro starò qui ad ascoltarvi finché posso soprattutto ascolterò il professor Spang che non è d'accordo su molte delle cose che io dico e che di solito poi mi interroga alla fine dei suoi interventi però oggi spero sia un po' più buono nei miei confronti. Grazie. Sì che danno quello che dici tu addirittura di impugnare senza la procura speciale l'appello ordinario però poi già ci confrontiamo sulla inammissibilità dell'appello del riesame che è stato dichiarato credo a Venezia se non sbaglio perché mancava lì l'elezione di domicilio si è stato addirittura fatto ultrapetita in un provvedimento del tribunale del riesame quindi insomma è stato ancora siamo andati ancora più in là da qui l'importanza di questi tavoli di confronti di queste osmusi che c'è con la magistratura perché è insieme che dobbiamo governare poi questa riforma perché le riforme camminano poi sulle gambe degli uomini e delle donne e da qui la presenza vostra nonché quella dei colleghi che ci stanno seguendo da remoto per significare l'importanza di questo incontro e allora come passare la parola al professor Giorgio Spanger per il suo inquadramento per il collocamento della riforma nel sistema e nostra nell'ambito della riforma prego grazie innanzitutto stavo lavorando per voi e comunque sul 581,1 ter che secondo me è la norma più chiara e che non dà luogo secondo il mio modesto punto di vista non dà luogo a problemi 581,1 ter i problemi sono sul 581,1 ter non sul comma 1 ter perché la lettura che mi permetto di dare è abbastanza semplice la norma serve solo per la citazione in giudizio giudizio d'appello 601 non vale per nessun altro ricorso né per un'altra impugnazione né per le sentenze di non luogo né per le misure cautelari né nulla e naturalmente non è prevista neanche la necessità che la procura diciamo l'elezione di domicilio sia antecedente perché se si confronta l'uno ter con l'uno quattro il riferimento l'antecedenza non c'è è inutile aggiungerlo perché non serve quindi il 581,1 ter è praticamente facilmente applicabile può essere anche un'elezione di domicilio che risulta da un atto precedente purché sia attenzione depositata depositata con l'atto di impugnazione questo perché serve per la citazione del 601 chiusa la parentesi mentre i problemi sono sul 601,14 dove c'è l'assente nel primo grado questo si tratta di una situazione diversa 581,1 ter ripetiamolo e leggiamolo depositare sì non sta scritto antecedente sta scritto ai fini della citazione in giudizio e se leggiamo 161 e 163 citazione in giudizio è solo quello dell'appello perché sta scritto espressamente per quali atti deve essere fatta l'elezione di domicilio monocratico tutti quelli che volete voi ma 601 che 601 è l'atto d'appello e basta e punto è chiuso quindi non la sentenza l'appello incidentale sì ma non tutti gli altri mezzi di impugnazione secondo me rescissione del giudicato sì perché è riscritto la revisione sì perché è scritto 601 tutto ciò che è 601 sì il resto questa è una mia interpretazione che credo che anche voi delle camere penali a Roma complice ne avete parlato e compagna ha cambiato l'orientamento orientandosi solo sulla seconda questione non fa orientamento non fa no no però ecco qui servirebbe guardate qui servirebbe una cosa semplice un'eccezione proposta dalla procura generale in Cassazione la Cassazione si pronuncia anche un obiter dictum e chiarisce il senso dell'applicazione della norma senza che facciamo eccessivi casini su una norma che è suscettibile di applicazione semplice allora io cercherò di dirvi in poche battute perché abbiamo tre corsi qual è il senso della riforma cartabia ripeto io non do giudizi di merito non mi interessa non è il mio compito non dico se va bene se va male di ogni norma possiamo parlare malissimo io ho scritto che il 529 bis è stato scritto da un analfabeta quindi non ho il problema di quello sulla giustizia riparativa il giudice il procedimento il processo uno che non capisce nulla di procedura può aver scritto una norma di quel genere chiusa la parentesi quindi non è che devo difendere la riforma non mi interessa difenderla analizzo le norme per quello che sono e cerco di darvi l'indicazione di sistema la riforma cartabia traccia delle modifiche sui comportamenti di molti dei soggetti processuali cioè molti soggetti processuali in questi ultimi tempi in questi ultimi anni hanno alterato il senso delle norme che erano chiamate ad applicare utilizzando e deviando il corso del procedimento non faccio riferimento a nessuno perché sennò tutti si incazzano quando tocco le loro posizioni personali quindi si dice no no non l'abbiamo fatto no no non lo facciamo non mi interessa questa è un'prima linea quindi correzione aggiustamento di una di l'intelaiatura del processo aggiustamenti attenzione processi che vale per Messina Denaro e vale anche per l'ultimo degli imputati quindi ci sono stati degli aggiustamenti di struttura proprio strutturali diciamoli così dentro questa struttura che ha aggiustato alcuni meccanismi inceppati che non funzionavano ci sono alcune linee chiarissime secondo me quello che l'ho già scritto e già detto la trazione anteriore del processo processo sbilanciato sulla fase delle indagini nel blocco che sta fra indagini e udienza l'indagine e l'udienza sono un tutto unico perché naturalmente è gestito da una stessa figura soggettiva che il giudice tutto ciò che si può portare nelle questioni che potrebbero venire dopo si cerca di anticiparle per diciamo disinnescare le questioni incidentali che potrebbero maturare successivamente in modo tale che il percorso successivo sia più fluido io ripeto non do giudizi dico solo quello che mi sembra di capire dal senso complessivo della riforma perché è il mio compito come professore universitario ha compito questo di capire cosa si vuole e qual è la finalità degli istituti e del sistema naturalmente per fare questo primo elemento trazione anteriore potrebbe dire costituzione di parte civile nell'udienza accertamento dell'assenza questione rimessa in cassazione per la competenza territoriale tutte questioni deposito delle perizze tutto prima nei limiti del possibile per disinnescare quelle che potrebbero essere delle mine lungo il disseminato del processo e anche regolando i comportamenti delle parti in modo tale che le parti si comportino più correttamente è chiaro che spostando il processo sì sì è chiaro sì cosa voglio dire non so se a lui o a tutti in generale anche a noi diciamo allora notifiche tutto quanto è finalizzato a questo seconda cosa è chiaro che questo procedimento a trazione anteriore presuppone anche certo comportamenti ma anche un giudice perché non è che possiamo lasciare il libero campo in questa fase delle indagini preliminari e udienza preliminare al pubblico ministero dobbiamo che ci sia qualcuno che da solo su iniziativa delle parti adesso non voglio dirvi tutti gli elementi che individuano questo rafforzino il potere di un giudice del giudice delle indagini preliminari dell'udienza preliminare questo giudice è indubbiamente rafforzato nei suoi poteri di controllo naturalmente a condizioni che li voglia esercitare ma questo sarà un problema del GIP e del GUP se vorranno esercitare non possano esercitare i poteri di controllo che li vengono assegnati fra i quali i poteri di controllo non secondari quelli sull'imputazione nei tre passaggi sia con riferimento al rapporto fra formulazione dell'atto di citazione di esercizio dell'azione penale e l'imputazione ma anche nei successivi sviluppi fino alla fine fino al punto di anticipare addirittura prima della decisione della sentenza qual è la qualificazione giuridica del fatto corretta in modo tale da ulteriore elemento e qui si inserisce perché la riforma cartabia ha una finalità cioè noi ieri abbiamo tenuto una proroga di un mese per il PNRR noi non ci dobbiamo mai dimenticare che questa riforma ha alcuni padrini che stanno collocati a livello europeo che non decidono solo della benzina non decidono soltanto quali sono gli stabilimenti balneari che dobbiamo vendere ma ha anche deciso quanto è il carico di deflazione che noi dobbiamo realizzare ai fini di verificare questa deflazione del 25% il ministero ha istituito l'ufficio Flussi attraverso una serie di domande che dovranno monitorare quant'è la tenuta del nostro sistema ma ripeto stiamo attenti noi dobbiamo assicurare quel risultato processuale ma questo mi interessa relativamente come viene attuato questo risultato processuale dentro la riforma cartabia viene attuato attraverso gli strumenti di deflazione ma cerco di spiegarmi soprattutto agli avvocati perché vorrei essere chiaro questi strumenti di deflazione sono alcuni quelli precedenti e già esistenti patteggiamento e abbreviato e procedimento per decreto che vengono naturalmente resi più incentivati da alcuni ulteriore benefits e di ieri e di oggi il fatto che per esempio gli amministratori quelli che avevano delle condanne potranno ricandidarsi perché per effetto della sentenza di patteggiamento che non prevede una pena accessoria avranno la possibilità perché si ritiene l'abrogazione delle norme cioè cosa voglio dire sono i vecchi istituti che sono facilitati incentivati cioè si cerca di favorire si è scritto comunque ormai sia le prefetture sia il ministero dell'interno hanno detto che gli amministratori che non hanno le pene accessorie potranno ripresentarsi nuovamente alle elezioni comunque qualsiasi sia non mi interessa è un dato i vecchi vengono incentivati ne vengono aggiunti dei nuovi vengono incentivati anche la messa alla prova viene incentivato anche la tenuità del fatto cioè vengono riscritti ridisegnati e resi più favorevoli per chi questo è il problema è su questo che vorrei insistere ma non per tutti viene costituito un allora tante volte quando vado a fare questi eventi vorrei fare un sondaggio questa riforma individua un percorso processuale particolare quello dell'imputato imputato di un reato monosoggettivo che sta nella fascia dai 2 ai 4 5 anni quello per il quale c'è la possibilità favorita di accedere tentata del fatto messa alla prova addirittura fino a 6 abbreviato se lo fa se lo ritiene perché uno che prende un abbreviato di 6 anni va a finire a 4 e con la riduzione del sesto del patriciamento va a finire a 3 anni e 4 mesi recentemente uno che aveva un pusher che aveva una pena di 8 mesi gli hanno dato una conversione in pena pecuniaria di 1050 euro a norciera inferiore cioè voglio dire questo non è un processo per tutti è un processo per una fascia particolare dei vostri studi legali cioè quei studi nei quali il 25 il 30 il 40 il 50% è fatto da questa situazione i quali dovranno valutare attentamente se utilizzare questo strumento di deflazione che è quello del 25% cioè da qualche parte il 25% ci sta ci deve stare e ci sta in questa fascia di imputati in questa fascia di reati naturalmente attenzione sulla base della regola di giudizio dell'archiviazione sulla base della prognosi di rinvio a giudizio tutto quello che volete voi e questa è la fascia nella quale si opera la cartabbia cioè attraverso prima la premialità favorita patteggiamenti più favorevoli conversione del decreto penale di condanna più favorevole abbreviato non più favorevole ma certamente poi con un recupero in caso di mancata impugnazione e attenzione quando non c'è questa scelta premiale che vi fa uscire dal processo perché potete benissimo correre il rischio del processo se il vostro imputato avrà una pena fino ai 4 anni pene sostitutive questo è lo schema della cartabbia molto semplice cioè che si rivolge io giuro quando vado in giro chiedo a un avvocato e dico ma quant'è la percentuale di questi processi che hai tu nel tuo studio certo non quello suo o non quello suo ma mi trovo risposte 50% 60% se già uno è più qualificato 35% questo è il processo cartabbia il processo per questo tipo di imputato reato monosoggettivo punito da 2 a 4 a 5 a 6 anni se è il caso il quale a un certo punto deve decidere se chiuderla o andare avanti se va avanti è ancora una ex strategia successiva se ancora non vuole accettare ha anche il concordato sarà il fallimento della giustizia che cerca la verità a tutti i costi che cerca il principio di legalità della pena tutto giusto c'è un ulteriore elemento nella cartabbia viene riattivato un certo circuito fra penale e processo quando è nato il codice di procedure penale noi ci siamo fatti il patteggiamento abbreviato per conto nostro e i penalisti non capivano poi i penalisti hanno recuperato hanno messo la messa alla prova e hanno messo la non punibilità del fatto oggi ci hanno reinserito anche una pena 4 pene a 4 pene e riattivato il circuito penale processuale perché quelle 4 pene però valgono per un certo tipo di imputato nei vostri studi mi riferisco non ai grandi studi mi riferisco alla grande massa di evocati dovranno valutare alla luce delle regole di giudizio del possibile rinvio se chiudere prima o aspettare di chiudere dopo non dico che questo sia l'optimo ma questo è ciò che la riforma vi offre come possibilità l'ho chiamato anche soave inquisizione perché è chiaro è una specie di ricatto morale sì ho capito però è una scelta ormai guardate patteggiamento abbreviato messa alla prova sono istituti che sono entrati nel lessico e nella cultura comune degli avvocati e forse anche degli imputati attenzione non in tutte le aree del paese il nord applicherà questo tipo di riforme il sud avrà delle maggiori resistenze perché la logica delle condanne o delle condanne anche miti viene vista negativamente ma la riforma è questa siccome ci sono molti interventi questa è la mia visione del processo penale chiaro che chiede un avvocato a un momento l'ulteriore elemento è questo attenzione il rapporto fra avvocato e imputato diventa più stretto l'imputato è chiamato maggiormente alle partecipazioni e alle scelte perché alcune scelte lo riguardano quelle della sentenza per esempio accettare o non accettare le pene sostitutive decidere se fare o non fare il processo decidere o non fare se fare l'udienza con la partecipazione il rapporto non è più quello dell'avvocato che ha la delega per fare tutto ma è un rapporto più di sinergia fra avvocato e il suo assistito in funzione della coscienza che l'imputato deve avere al processo ci sono scelte che sono richieste personalmente salvo la procura speciale cambia qualcosa se sia in meglio o in peggio lo deciderete voi non sono io certo doverlo dire io devo solo cercare di spiegarvi secondo il mio modesto punto di vista qual è il senso della riforma ringrazio il presidente e lo salutiamo bene quindi come dire già un approccio positivo da parte del professore o quantomeno una contestualizzazione in scopo deflattivo fuga dal processo ma io direi poi per tornare a fare i processi avere gli spazi e le risorse per poter fare i processi però che dobbiamo fare perché altrimenti perde una presa allo Stato e adesso la presidente Paola Roia presidente dell'ottava nessuno di voi ha bisogno che io la presenti perché chi non la conosce la ringraziamo io cogo l'occasione anche in questa occasione per ringraziare la magistratura romana con la quale abbiamo diciamo camminato all'unisono durante la pandemia oggi abbiamo anche la camera penale ed abbiamo cercato di tenere in sicurezza i nostri tribunali e penso che alla fine siamo potuti riusciti grazie presidente a lei bene grazie per l'invito che è sempre molto gradito perché sicuramente serve a chi viene invitato speriamo che almeno un po' serve o servirà a chi ascolta proporrò una visione leggermente più disincantata rispetto quella del professor Spanger già ci siamo confrontati sulle nostre due diverse opposte filosofie devo dire di lettura e concorderemo solo su una cosa alla fine dunque siamo ormai nell'era del dibattimento cartabia è quasi a pieno regime quindi non c'è più tempo di concentrarci sulle astrazioni ma dobbiamo invece parlare degli impatti pratico applicativi rispetto ai quali mi preme comunque accennando come farò al tema della disciplina transitoria e del diritto intertemporale e posti dal decreto 150 inserire la riforma nel contesto in cui è nata perché è il solo che ci permette di comprenderla già è stato evocato lo sfondo che c'è dietro alla legge 134 che ha fondato le sue radici nel fattore pandemia nella next generation nei fondi che sono stati messi a nostra disposizione dall'Europa per superare il periodo pandemico e l'emergenza post pandemica a quel tempo sul tavolo del governo vi era un prezioso strumento di lavoro coevo costituito dai lavori della commissione Lattanzi che si era conclusa nel maggio del 2021 associato a quello che fu la contemporanea decisa presa di posizione del ministro Cartabia da lei espressa in occasione di un convegno dell'estate 2021 per cui il mantenimento dello status quo non può essere un'opzione sul tavolo e qual era quindi lo status quo nell'estate del 2021 che secondo il ministro Cartabia non poteva essere mantenuto è lo stesso che ci ritroviamo a poco meno di due anni di distanza lo traggo dai dati quindi da un dato da un fatto oggettivo presente nella relazione del primo presidente della corte di cassazione del risalente a due mesi fa al 30 giugno 2022 pendeva un numero di procedimenti penali contronoti in Italia pari a 2 milioni 400 mila un disposition time il disposition time è l'unità di misura sulla quale ci valuterà poi l'Europa è data dal confronto fra pendenti alla fine del periodo col flusso degli affari definiti nel periodo che per i tribunali ordinari è di 390 giorni drammaticamente per le corti d'appello è di 815 giorni che è un dato in calo anche vistoso rispetto all'anno precedente ma comunque molto lontano dalla milestone la milestone è il punto in cui dovremo arrivare il 30 giugno 2026 per poter mantenere i fondi che nel frattempo sono stati anticipati e che si esprime nella cifra di 601 ma non è tanto il dato quantitativo quello che ancora ci deve spaventare soprattutto il dato qualitativo sempre dalla relazione del primo presidente della Cassazione emerge che sottratto un 41% di contenzioso che va a richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero abbiamo un 20% di citazioni dirette un 10% di richieste di rinvio giudizio un 15% diritti alternativi quel che però è grave all'interno dei fascicoli per i quali viene esercitata l'azione penale è la cifra delle assoluzioni che ripeto al 30 giugno 2022 si esprimeva con un 55% nel giudizio ordinario un altrettanto mio parere anomalo 40% nel giudizio direttissimo un 28% nell'ambito del giudizio immediato cioè esattamente in quei due riti che dovrebbero fondarsi o sull'evidenza della prova se non addirittura sulla flagranza del reato ecco è il quadro che tuttora che tuttora viviamo e che testimonia da un lato l'incapacità del sistema giudiziario di assicurare risposte tempestive a una domanda di giustizia penale che resta sempre troppo elevata ma dall'altro lato documenta anche l'inefficienza del meccanismo di selezione delle notizie di reato da parte delle procure rispetto alle quali viene esercitata l'azione penale ecco mi sono permessa l'illustrazione di questi dati che sono eloquenti per capire perché il ministro disse che il mutamento dello status quo non era un'opzione praticabile ma anche perché solo questi numeri ci permetteranno di operare alcune valutazioni tecniche in punto operatività di alcuni istituti che riguardano il dibattimento e che non si comprenderebbero se non avessimo chiaro la genesi e l'anima della riforma d'altra parte non si tratta di una illazione di una deduzione la legge 134 di delega si intitola delega al governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per l'accelere definizione dei procedimenti giudiziari per cui null'altro dobbiamo cercare sostanzialmente quando andremo a confrontarci sulla filosofia retrostante i nuovi istituti e allora quali sono le misure acceleratorie ed efficientiste che riguardano il dibattimento e che impatto possono avere ma anche che criticità possono presentare ragioni di tempo ma non solo ragioni di tempo mi impongono di soffermarmi soprattutto sul rito monocratico perché il rito monocratico che fa numeri è quello che pesa di più in questo bilancio negativo e all'interno del rito monocratico la citazione diretta che esaurisce i due terzi del carico di lavoro perché la forma in assoluto più frequente di esercizio dell'azione penale soprattutto a Roma lo sarà ancora di più dopo l'implementazione dell'articolo 550 del Coglio di Brugia Penale quindi sono costretta a trascurare tutto quel che poi arriva a dibattimento in particolare gli sbarramenti in cui pure il professor Spanger ha fatto riferimento previsti per l'udienza preliminare ad esempio il limite alla costruzione di parte civile la sedimentazione sulla formulazione dell'imputazione il potenziamento dei riti in particolare dell'abbreviato o il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per le questioni di competenza trascuro anche anche qui per ragioni di sintesi istituti che sono importanti nel dibattimento benché in forma ancillare ad esempio il processo penale telebatico sarà oggetto di disciplina transitoria presa nell'articolo 85 seguenti del decreto 150 avremo tempo quindi di parlarne avremo tutto l'anno sapete che la disciplina transitoria sta profondamente innovata dal decreto legge 162 31 ottobre del 2022 convertito a sua volta con modifiche sulla novella nella legge 199 del 2022 noi sappiamo che la disciplina transitoria ha ad oggetto quelle regole materiali che il legislatore ha appositamente dettato per accompagnare la transizione dal vecchio al nuovo regime per alcuni istituti scelti dal legislatore per i procedimenti che pendevano al 30 dicembre 2022 e per quanto riguarda il dibattimento l'ha fatto con differimenti di efficacia per istituti di nuovo conio o per esigenze organizzative faccio riferimento agli articoli 80 e 87 bis come introdotti dalla legge 199 in tema di processo penale telematico compreso regime delle notificazioni e del deposito di atti e di memorie che verrà avviato al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento ministeriale per il quale il legislatore si è preso un anno quindi entro il 30 dicembre 2023 comproroga tra l'altro sino ad allora delle disposizioni vigenti in tema di deposito di atti documenti e istanze ma anche di notificazioni sempre fare le norme transitorie strumentali al dibattimento ricordo quella in tema di dichiarazione di assenza articolo 89 per le dichiarazioni di assenza già dichiarate appunto al momento dell'entrata in vigore della riforma e a seguito della legge 199 che se ne è ricordata perché mancava la norma transitoria anche la disciplina in materia di udienza predibattimentale articolo 89 bis che è operativa sarà operativa o è operativa per i decreti di citazione emessi dopo il 30 dicembre 2022 in concreto il tribunale di Roma partirà con le prime predibattimentali a settembre 2023 salvo i cautelati o le misure cautelari per cui l'udienza viene anticipata da maggio 2023 in poi chiudono le norme transitorie di interesse quella importantissima in tema di mutamento della persona fisica del giudice in corso di dibattimento articolo 495 comma 4 ter che in virtù dell'articolo 5 deces della legge 199 non si applica per le prove dichiarative assunte fino al primo gennaio 2023 e l'articolo 5 1 deces sempre della legge 199 sulla disciplina transitoria per la videoregistrazione delle prove dichiarative che sappiamo essere stata anticipata di 6 mesi e cioè al 30 giugno 2023 fortunatamente perché come sapete e forse come si intendeva dai primi interventi la situazione del tribunale di Roma è drammatica più volte rappresentata in maniera accorata dal presidente del tribunale alla digissia cioè alla direzione generale dei sistemi informativi automatizzati il tribunale di Roma dispone ad oggi di sole sei aule dotati di impianti di multivideoconferenza esterna ad uso di tutti i giudici del tribunale quindi abbiamo 56 aule fra collegio monocratico GIP e GUP sprovviste di impianto di multivideoconferenza esterna e addirittura manca completamente del tutto l'impiantistica per la video audio registrazione interna per tutto il tribunale di Roma per cui se la riforma fosse già operativa il tribunale di Roma si troverebbe completamente impreparato ad affrontarla vedremo se al 30 giugno 2023 qualcosa sarà cambiato ecco al di fuori di queste norme transitorie che sono norme eccezionali e come tali soggette al divieto di analogia per tutti gli altri istituti di cui ora parleremo varrà il principio generale tempus regita actum che per noi secondo l'ottima definizione del professor Lozzi è il tempo del processo quindi varranno i criteri generali in tema di successione di leggi nel tempo benché si tratti di reati commessi fino al 29 dicembre 2022 e quando anche questo canone interpretativo generale e ancora non basti e non basterà probabilmente a risolvere la complessità perché come sappiamo il prescio penale non è un fenomeno istantaneo è una concatenazione di atti che si susseguono nel tempo è sempre stato oggetto di dispute che cosa sia il tempo e che cosa sia l'atto perché se noi isolassimo l'atto il principio comporterebbe che a tutti i processi in corso dovremmo applicare le nuove norme così come se per atto intendessimo il processo dovremmo concludere che tutti i processi pendenti proseguono proseguiranno con le norme del tempo in cui hanno avuto inizio e questo lo dico perché siamo noi giudici più o meno investiti da istanze difensive che devo dire talvolta in maniera confusa pretendono l'applicazione retroattiva di tutta una serie di istituti in corso di giudizio il più importante è la restituzione in termini per il giudizio abbreviato piuttosto che per l'applicazione della pena ricordo che circa una decina di giorni fa la mia sezione ha elaborato un provvedimento molto articolato e molto motivato in senso negativo su una richiesta di restituzione in termini per applicazione pena a dibattimento in corso altrettanto ci giungono istanze così un po' un po' così creative in fase di esecuzione ad esempio con la pretesa di applicare le pene sostitutive in fase esecutiva ecco probabilmente la tesi corretta in materia di regime intertemporale è quella che distingue fra atti futuri per i quali sicuramente varrà lo ius novum a partire dal 30 dicembre 2022 atti già compiuti ed istantanei i cui effetti cioè si sono esauriti al 29 dicembre 2022 sui quali indietro non si tornerà atti in corso di compimento e atti compiuti ma con effetti non ancora esauriti che sono quelli più problematici perché sono quelli in cui confliggono le due esigenze in tema di successioni di leggi nel tempo cioè da un lato l'immediata operatività delle nuove norme che la legislatura ha reputato più adeguate rispetto alla situazione attuale ma dall'altro lato la salvaguardia dell'affidamento delle parti sugli atti già compiuti esigenze quindi che dovranno essere contemperate dall'interprete caso per caso ovvero istituto per istituto e allora vediamo velocemente di fare una scorsa sul regime intertemporale di quello che è entrato immediatamente in vigore nell'ordine codicistico cioè nell'ordine utilizzato dal codice per l'esposizione e questo partire dalle norme in tema di organizzazione del dibattimento 477 ossia la norma sulla calendarizzazione necessaria di tutti i processi io ho già avuto modo di esprimermi criticamente su questa norma lo rifaccio a mio parere in gessa appesantisce i ruoli c'è una specie di eterogenesi così dei risultati perché impedisce quel minimo di discrezionalità operativa che il giudice esperto si conserva si conserva perché ti consente di rendere sempre utile l'udienza cioè di ovviare a rinvi imprevisti ad assenza del testimone ad astensioni e che invece la calendarizzazione spinta totale non consentirebbe il giudice sa perfettamente quali sono i processi che vanno calendarizzati e quelli che non devono essere calendarizzati perché si raggiungerebbe il risultato esattamente opposto d'altra parte un istituto nato all'interno del processo civile dove in un caso la norma omologa che è l'articolo 81b delle disposizioni di attuazione è praticamente disapplicata perché mal tradotta dal prototipo francese cui ci siamo ispirati ma nel processo penale è incompatibile con l'imprevedibilità che il giudizio penale porta con sé compresi i poteri ufficiosi del giudice che non sono preventivabili è immediatamente entrata in vigore la nuova disciplina sulla costituzione delle parti e sul processo in assenza salvo dicevo le dichiarazioni di assenza già pronunciate quindi articoli 420 bis e seguenti così come operativa benché devo dire ancora abbastanza sconosciuta nelle aule la reintroduzione dell'illustrazione delle richieste di prova articolo 493 in punto ammissibilità delle prove non in punto rilevanza e anche qui il legislatore pensava di darci una mano ma non credo troppo perché anche questa norma non offre al giudice poteri in termini di snellimento a questo mirerebbe snellimento diciamo nell'indicazione dei mezzi di prova da ammettere e non offre poteri di selezione del materiale probatorio al giudice superiori rispetto alla norma invece molto più efficace molto più utile perché esercitata con cognizione di processo che è quella dell'articolo 495,4 che autorizza il giudice in corso di dibattimento a revocare prove superflue o ad ammettere prove già escluse ancora immediatamente operativa e anche qui non ne vediamo ancora molti effetti pratici la norma sul deposito anticipato della razione scritta di periti consulenti 501,1 bis del codice di bruciola penale che devo dire per la mia esperienza si rivolge fondamentalmente alle difese perché il potenziamento del contraddittorio informato sulla prova tecnica e scientifica già esisteva tranquillamente nella prassi delle aule giudiziarie con la richiesta che viene fatta al perito di depositare in anticipo la sua relazione in modo da consentirne la presa di visione informata appunto ad opera delle parti la consulenza tecnica del pubblico ministero è disponibile fin dalla fase delle indagini preliminari per cui devo dire è una norma che si dirige prevalentemente sollecita una migliore organizzazione difensiva perché ancora oggi i difensori depositano la loro relazione dopo aver fatto sentire il consulente sarà importantissimo a breve la disciplina sul mutamento del giudice dove si combinano due norme il 495,4 ter cui abbiamo accennato prima in tema di disciplina transitoria l'articolo 510,2 bis in tema di documentazione dell'attività appunto d'aula che a far data dal 30 giugno 2023 l'abbiamo detto prevede la riproduzione audiovisiva da chiunque e da chiunque sia resa la prova dichiarativa è una norma questa con cui si è tentato un bilanciamento fra i principi espressi a sezioni unite nel 2019 dalla famosa bairami e dalla non casuale sentenza di inammissibilità coeva della corte costituzionale la numero 132 che aveva scrutinato le presunte incongruità del diritto vivente rispetto al disposto dell'articolo 525 secondo comma secondo cui il giudice della prova deve essere anche il giudice della decisione ecco devo dire che le prime interpretazioni che si sono affacciate sul significato del 495 comma 4 ter al di là dei nostri problemi contingenti di dotazioni strumentali che però prima o poi verranno risolti cioè le prime letture secondo cui il giudice del dibattimento non potrebbe in alcun modo vagliare la richiesta di rinnovazione della prova dichiarativa che non sia stata videoregistrata sono ragionevolmente da respingere ci sono molti argomenti che potrebbero essere addotti rispetto a questa conclusione ne cito soltanto uno tutto il sistema e letteralmente l'articolo 495 comma 4 ter ruota intorno all'interesse alla rinnovazione l'interesse alla rinnovazione per cui ferma la deroga e non è cosa da poco dell'articolo 190 bis che per tutta una serie di processi è rimasto inalterato potremmo prospettare una situazione di questo tipo dove il mutamento del giudice avverrà in processi in cui è stata ritualmente effettuata la videoregistrazione delle testimonianze o comunque della prova dichiarativa in genere il giudice potrebbe comunque disporne d'ufficio la riassunzione ma solo quando lo riterrà necessario sulla base di specifiche esigenze già si discute si sostiene da parte di alcuni se non vi sarà anche un obbligo di visione incontraddittorio in aula della prova videoregistrata assunta davanti a giudice diverso dove poi invece il mutamento della persona fisica interverrà in processi in cui la videoregistrazione non è stata eseguita non c'è dubbio che le parti avranno diritto a chiedere la rinnovazione quando anche non si tratti di testi indicate nella propria lista e già questa è una significativa distanza rispetto alla bairami e lo potrà fare allegando elementi a sostegno di uno specifico interesse non in termini di necessità come nel caso della prova videoregistrata ma semplicemente in termini di utilità utilità che però non potrà consistere solo nell'oralità to cure fine a se stessa quindi come generico interesse alla riacquisizione orale né tantomeno nella possibilità di ottenere dichiarazioni diverse per poter contare su una più favorevole piattaforma probatoria l'interesse invece dovrà essere rappresentato da un'esigenza specifica rilevante processualmente quindi unica tutelata di far ascoltare direttamente al giudice quindi de visu e de auditu il dichiarante già escusso laddove se ne dimostri in concreto l'utilità per la posizione della parte richiedente tutto questo però senza dimenticare che lo stress della memoria del testimone come tutti sanno ma soprattutto come sa il giudice non è mai cosa buona per il processo tutto al contrario e tutto questo anche non volendo pensare che si torni a quei simulacri vuoti e inutili di oralità in cui il dichiarante compariva magari a distanza di qualche anno e si limitava a dire confermo 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 tutto questo ho tenuto conto che il 511 per la parte residua non è sto modificato per cui il giudice quando darà lettura degli atti darà lettura anche delle prime dichiarazioni acquisite in contraddittorio davanti ad altro a giudice diversa persona fisica ecco rappresento che un elemento di distonia in questa fase forse sistematica di costruzione di qualcosa di nuovo è rappresentato dal 496 2 bis sull'assunzione della prova dichiarativa da remoto e anche qui ho avuto già modo di dire che siamo di fronte a una specie di mutamento di pelle del processo penale perché sono state recuperate quelle norme eccezionali del periodo pandemico che allora erano imposte dalla necessità perché non avevamo alternative oggi semplicemente dalla esigenza di deflazione di snellimento dell'istruzione dibattimentale di quell'accelerazione cui la legge 134 faceva riferimento funzionale agli obiettivi perseguiti dal legislatore in questo slancio molto spiccato verso il processo in ambiente digitale in cui il legislatore ci ha proiettato ora al di là del fatto che è vero che ci è stata consegnata una norma per l'audizione da remoto che è il 133 ter però una norma onnicomprensiva che accomuna situazioni completamente diverse e al di là del fatto che quando è stata praticata questa forma di assunzione l'abbiamo visto si è rivelata sostanzialmente fallimentare io però ho sempre pensato e continuo a credere che la prova acquisita dal dibattimento da remoto sia altra cosa rispetto alla prova orale tipica le camere penali giustamente avevano protestato quando la sera in qualche modo sistematizzata secondo le camere penali per il vulnus indotto alla difesa secondo me per il vulnus creato al processo perché viene incidere sull'oralità sull'immediatezza che transitano necessariamente per la fisicità della celebrazione del processo tanto più che ora il legislatore ci ha inserito questo 495,4 ter ed è quindi perfettamente consapevole dell'importanza della percezione da parte del giudice del verbale e del paraverbale ecco è vero che è una norma subordinata al consenso di tutte le parti ma è anche vero che ci proietta effettivamente in un tipo di processo penale su cui dovremo confrontarci fra le norme di immediata operatività non c'è tempo sicuramente per dettagliare quella relativa all'assenza posso dire che daremo sicuramente soddisfazione al legislatore con gli articoli 420 bis e seguenti anche a costo di pronunce che secondo me talvolta sfioreranno l'irrazionalità sulle pene sostitutive sarò ottimamente seguita e quindi vado oltre e vado all'ultimo istituto su cui mi volevo soffermare perché è un istituto dirompente in sé ma è anche un istituto che ci permetterà di fare alcune valutazioni di tipo un po' più generale ed è quello dell'udienza predibattimentale articolo 554 bis e seguenti ruotante sulla regola di giudizio della ragionevole previsione di condanna che è stata condivisa con la stessa formula prevista per il decreto di archiviazione come sottospecie dell'infondatezza della notizia di reato articolo 408 e con analoga formula prevista per la sentenza di non doversi procedere 425 comma e 3 soprattutto nell'ottica deflattiva che caratterizza la riforma l'udienza predibattimentale acquista un peso specifico notevolissimo abbiamo già detto che è la citazione diretta che incide soprattutto sui numeri complessivi delle pendenze e ancor più inciderà un domani con il deciso ampliamento delle ipotesi di citazione diretta e che per il legislatore sia istituto assolutamente centrale nella sua nella sua visione è dimostrato dal fatto che proprio sull'udienza predibattimentale si scarica quasi completamente la diciamo la totalità degli istituti riformati e potenziati dal decreto cartabia dalla costituzione delle parti alla verifica sull'assenza consapevole dell'imputato e l'eventuale declaratoria di assenza scusate l'eventuale declaratoria di non doversi procedere per assenza impediente articolo 424 era la trattazione delle questioni preliminari sino appunto per il monocratico al rinvio pregiudiziare alla corte di cassazione sulla competenza per territorio agli effetti dell'ampliamento notevole delle ipotesi di procedibilità querela affidando una funzione conciliativa al giudice del predibattimento e quindi ampliando le possibilità di remissioni di querela ma anche di estinzione del reato per condotta riparatoria si porrà in termini problematici il tema del 131 bis e si porrà invece con certezza il potenziamento dei riti alternativi abbreviato potenziato nei termini che conosciamo applicazione pena allargata diciamo così nei termini che conosciamo sospensione del processo commessa alla prova allargata e potenziata sembrerebbe da un lato un'udienza preliminare dall'altro un'udienza camerale 127 in realtà non è nell'una nell'altra un istituto assolutamente originale basti pensare al fatto che un'udienza non fissata dal giudice non ci sarà quindi un avviso di fissazione la fissa direttamente il pubblico ministero sarà l'udienza che il tribunale gli indicherà per la prima comparizione e a comparizione necessaria partecipazione necessaria del pubblico ministero del difensore si applica integralmente la disciplina del legittimo impedimento sia per l'imputato che per il difensore ma a differenza dell'udienza preliminare il giudice non ha poteri istruttori singolarmente anche rispetto allo stesso giudice monocratico dell'esecuzione che ai sensi dell'articolo 166,5 ha piena facoltà di integrazione e probatoria anche nell'incidente di esecuzione e tutto questo perché a ben vedere si tratta di un'udienza camerale che già deve considerarsi giudizio e dibattimento è ricompresa nell'ambito del titolo secondo del libro settimo è un'anticipazione in qualche modo possiamo ritenerla atto introduttivo al dibattimento viene celebrata dallo stesso organo dibattimentale benché quale diversa persona fisica organo del dibattimento giudice il dibattimento che è dotato di ampi poteri istruttori ma solo a partire dalla fase immediatamente successiva alla dichiarazione di apertura del dibattimento non è prevista una fase di discussione come inudienza preliminare c'è però un contraddittorio pieno quando anche semplificato superiore rispetto a quello che il giudice del predibattimento disponga di ampi poteri è dimostrato dalla base probatoria su cui eserciterà le sue valutazioni sulle quali arriviamo fra un attimo il pubblico ministero anche in questo momento continuerà a formare il doppio fascicolo come fa ora continuerà a formare un fascicolo che va al giudice del predibattimento unilateralmente formerà a differenza di quanto viene nel 431 il fascicolo che va e andrà al giudice del dibattimento su questo le parti potranno discutere davanti al giudice del predibattimento sulla sua formazione dopodiché il dibattimento proseguirà davanti appunto a un giudice altra persona fisica il fascicolo su cui il giudice del predibattimento ha esercitato le sue valutazioni ritornerà laddove non si giunga un epilogo decisorio ritornerà al pubblico ministero la latitudine dei poteri del giudice del predibattimento e torniamo ancora una volta alla norma di scopo che qui è direi dichiarata in maniera eclatante la ricaviamo dall'ampiezza delle formule di cui dispone il giudice del predibattimento nel 554 ter tutte quelle del 469 tutte quelle del 129 sono state è stata aggiunta anche la non punibilità dell'imputato per qualsiasi causa quindi ci rientrano le cause di giustificazione ci rientra il difetto di imputabilità quindi l'incapacità di intendere di volere purché il soggetto possa apparsi in grado di partecipare al processo e purché non sia socialmente pericoloso e quindi destinatario di un'eventuale misura di sicurezza a differenza del 129 addirittura non è stata neanche replicata la norma sull'evidenza della sussistenza delle cause di proscioglimento quindi il giudice l'applicherà anche se non è evidente la causa di proscioglimento ma non c'è dubbio e questo è l'ultimo argomento davvero che volevo affrontare che l'epilogo più problematico è davvero più dirompente e il non luogo procedere per ragioni probatorie previsto in articolo 554 ter comma 1 secondo secondo periodo è un tema complessissimo questo del proscioglimento per ragioni probatorie molto si è scritto molto su di esso punta la riforma per restituire al dibattimento quello che è c'è una risorsa scarsa e preziosa talmente importante che addirittura è stata istituita una nuova funzione questa del giudice monocratico predibattimentale con questi compiti di formulare una diagnosi prognostica e probabilistica che se sicuramente è stata introdotta in funzione garantista per tutelare l'imputato da accuse che non reggerebbero poi il contraddittorio e quindi tentare di abbattere quel dato patologico del 55% di assoluzioni che abbiamo visto affliggere il rito monocratico è però rimasta priva di qualsiasi parametro di riferimento normativo e di istruzione di metodo per il giudice dico solo segnalo solo un paio di incertezze del legislatore una il disallineamento che è almeno apparente fra i presupposti per la sentenza di non luogo a procedere laddove non sia formulabile una ragionevole previsione di condanna e i presupposti per revocare questa sentenza 554 quinques che si potrà avere laddove vi sia la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove che possono determinare l'utile svolgimento del giudizio e quindi senza una valutazione ponderale dell'effetto della scoperta delle nuove prove o comunque della sopravvenienza tra l'altro apro e chiudo parentesi a differenza delle sentenze di proscioglimento in esito al giudizio abbreviato benché inoppugnabile è una sentenza che non sarà mai irrevocabile e quindi sarà priva dell'attitudine al giudicato essenzio degli articoli 651 e seguenti con tutto quello che ne conseguirà ad esempio in termini di incompatibilità del prosciolto a diventare testimone o testimone assistito 197 bis seconda discrasia e poi passiamo alle valutazioni il legislatore si è dimenticato di coordinare questa norma con l'articolo 61 del decreto 231 del 2001 sulle forme di proscioglimento con riguardo alla responsabilità amministrativa dipendente da reato degli enti dove è rimasta la vecchia formulazione per cui il GUP pronuncerà sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti contradditori o inidonei a sostenere l'accusa in giudizio quindi si è dimenticato di introdurre questo filtro per ragioni probatorie in ragione in favore dell'ente incolpato e allora che cos'è la ragionevole previsione di condanna che ripeto la formula condivide col decreto di archiviazione piuttosto che con la sentenza del GUP secondo l'opinione prevalente che quella che è stata fatta propria dal CSM nel suo parere sarebbe espressione parallela rispetto all'oltre ogni ragionevole dubbio il cosiddetto BARD l'acronimo di diritto anglosassone quindi si tratterebbe della stessa regola di giudizio dell'articolo 533 anticipata una fase molto molto precedente tuttavia appunto anche al di là del fatto che viene anticipata questa regola a una fase del procedimento che non ha visto la partecipazione attiva dell'imputato e addirittura neanche dell'indagato se parliamo del decreto di archiviazione e anche al di fuori del contraddittorio di cui questa regola è figlia naturale al di là dei profili di imbarazzo costituzionale che sono stati proposti ad esempio per l'estensione della stessa regola Iuris rispetto a reati che esprimono livelli di gravità completamente diversi ancor più per le tensioni col principio di costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale per il tema caldissimo della rivalutabilità delle decisioni del giudice del predibattimento perché se non sono rivalutabili puzza tanto di incostituzionalità se sono rivalutabili lavoriamo due volte per nulla per cui finiamo per anche qui raggiungere obiettivi completamente diversi rispetto a quelli dichiarati ma anche al di là di questo è chiaro che si tratta di una regola che cambia sino a stravolgere i rapporti interni alla giurisdizione e alla costruzione degli assetti sia per il giudice del dibattimento monocratico o collegiale che sia per la valutazione anticipata sul merito dell'imputazione che dovrà arrivare a giudizio con una probabilità che il giudice che mi precede è già stimato pari ad almeno il 51% di condanna fatto che pone sicuramente un'ipoteca sul processo sia per l'imputato che da presunto innocente arriverà al dibattimento da presunto colpevole con un pesante pregiudizio sull'incolpazione che non potrà che originare un potenziamento una massimizzazione dell'attività del difensore che si troverà costretto a rovesciare in qualche modo questa presunzione relativa di colpevolezza non solo ma anche operativamente sono molto diversi gli strumenti in mano al GP in fase di indagini in vista di una richiesta di archiviazione al GUP in vista di una richiesta di rinvio a giudizio rispetto all'assenza totale di poteri di cui dispone il giudice del predibattimento e questo perché forse il legislatore non si è reso conto che le pronunce assolutorie che si vorrebbero ricondurre a percentuali ragionevoli e accettabili sono normalmente frutto di regole dibattimentali di controesami efficaci fatti dalla difesa di prove a discarico che non sono neanche ipotizzabili a priori e quindi staremo a vedere sull'impatto deflattivo che potrà avere questo passaggio di predibattimentale rispetto al quale al momento possiamo esprimere una sola certezza cioè costerà moltissimo all'organizzazione soprattutto nei tribunali medi o piccoli dove sarà difficile supplire alle incompatibilità che si verranno a creare e che al momento pare allungare piuttosto che accorciare i tempi del processo e non sarà allora proprio la struttura del processo accusatorio che prevede la formazione della prova in dibattimento a generare il problema affrontato dalla riforma il dibattimento resterà il luogo dove difendersi provando sarà il luogo dove l'imputato dovrà provare a difendersi in concreto in maniera più spicciola il giudice del predibattimento chiamato ad applicare questa regola potrà ad esempio valutare l'irreperibilità possibile di testi importanti delle persone offese che però magari potranno essere rintracciati potrà valutare gli approfondimenti tecnici di una consulenza del pubblico ministero e avversati da una consulenza tecna della difesa senza potersi avvalere di un suo esperto potrà davvero valutare l'irrilevanza penale del fatto prima ancora di aver celebrato il processo l'estinzione per prescrizione nel breve periodo se non addirittura l'estinzione per prescrizione in appello dove si possa ipotizzare un dibattimento rapido che questioni di inutilizzabilità potranno essere proposte davanti al giudice del predibattimento ecco vedete quanti dubbi si affacciano quante perplessità che ancora una volta sono state affidate alla discrezionalità ragionata prudente motivata del giudice cui è stato offerto soltanto un parametro occulto ecogente e c'è la necessità di raggiungere gli obiettivi del disposition time e di fare presto e tutto questo dimenticando l'alternativa molto comoda che è stata lasciata nel codice al GUP che appunto potrà muoversi fra un decreto che dispone il giudizio immotivato che non va motivato e che non è impugnabile una sentenza di non luogo a procedere per ragioni probatorie che è vero che formalmente deve essere solo sommariamente motivata come dice il 425 ma in realtà dovrà essere adeguatamente motivata proprio per il suo impatto e quindi un provvedimento a costo zero che fronteggia un provvedimento molto più laborioso e pesante quindi vedremo che succederà chiudo davvero con una riflessione che è una riflessione amara che si contrappone invece alla positività del professor Giorgio Spanger un primo bilancio che però è davvero assolutamente personale perché anche se chi ha partecipato ai lavori preparatori della riforma cartabia sostiene che la tesi della riforma quale fuga dal sistema cognitivo non sia condivisibile e che invece proprio questa riforma vorrebbe assicurare un sistema che garantisca i valori dell'articolo 111 della Costituzione in particolare per quanto riguarda la ragionevole durata del processo abbiamo visto che in concreto questo non è esattamente vero e anzi per parecchi istituti è vero il contrario è evidente che la logica ispiratrice io sono abbastanza disincantata in questo è quella del fare presto e questo ha portato a stravolgere totalmente l'impostazione precedente l'impostazione codicistica precedente perché è stato rinnegato il principio del favor processum e con esso l'elaborazione giurisprudenziale che a questo principio si era ispirata pensiamo all'interpretazione in tema di rinvio a giudizio all'esito dell'udienza preliminare con l'introduzione in favore dell'imputato di un diritto al non processo tanto per ragioni formali quanto per ragioni sostanziali e allora io dico che se il compito ambizioso di chi fa il mestiere del giudice penale probabilmente anche di chi fa l'avvocato e di dare a ciascuno il suo e se è vero che la giustizia è un ideale tremendamente serio mi chiedo come sia compatibile questa deriva produttivistica efficientistica questo trend che ormai si è consolidato che è stato potenziato dalla riforma che si somma a quello che già sta sulle spalle del giudice programmi di gestione indici di produttività indici di ricambio indici di smaltimento e come tutto questo si concili proprio con i valori del giusto processo che il giudice è chiamato a garantire ed attuare perché il processo giusto è quello che si conclude nel tempo ragionevole che quel tipo di affare richiede e pretende e che non è né standardizzabile né comprimibile ecco sono impostazioni queste che sono state rafforzate dalla riforma che fanno fatica ad adattarsi a quello che il prodotto che il giudice mette sul mercato perché ormai così viene trattata la sentenza in termini aziendalisti in termini produttivistici quando invece è chiaro che altro una sentenza 424 altro una sentenza di merito all'esito di un complesso dibattimento sappiamo che la logica dei numeri è una logica devastante e non può che generare disuguaglianze di tipo sostanziale perché nella logica dei numeri ci si concentra sulle cose più semplici più facili e si accantonano le cose più complesse non dobbiamo e non possiamo mai dimenticarci che il processo resta momento di realizzazione del valore della giustizia se non della verità laddove possibile noi non produciamo numeri ma produciamo giustizia ciò nonostante anche in questo contesto e anche con questa amarezza siccome il giudice è soggetto soltanto alla legge lo è sicuramente lo sarà anche in questo caso e allora chiudo con uno slancio ottimistico che trago sempre dalla relazione del primo presidente della corte di Cassazione una citazione che campeggiava appunto nella prima pagina e che è dita lo Calvino non credo a niente che sia facile rapido spontaneo improvvisato approssimativo credo nella forza di ciò che è lento calmo ostinato senza fanatismi né entusiasmi e allora vedremo i risultati che la comune forza della nostra lentezza della nostra calma e della nostra ostinazione riusciranno a produrre la presidente si è preoccupata di dire se ha preso troppo tempo ma penso che saremo stati ancora ad ascoltarla e fare un processo però non venivamo proprio da un momento particolarmente felice quindi noi siamo spinti dalla necessità io dico la mattina ci dobbiamo alzare di necessità a virtù quindi dobbiamo cercare di consentire a questa riforma in qualche modo di prendere i piedi sarà a noi dirigerla ci sarà una fase di assestamento però noi abbiamo sofferto perché anche noi avvocati crediamo che la giustizia è un ideale fondamente tremendamente serio quindi da qui non posso commentare perché non sono neanche in grado della relazione dell'ottima presidente Roia però un accorato appello al DGC perché l'abbiamo fatto con la camera penale Vincenzo Comi era vicepresidente del presidente Cesare Placani che noi abbiamo ottenuto per l'avvocatura romana direi in generale durante la pandemia una straordinaria innovazione ma abbiamo ottenuto più durante la pandemia che adesso quando invece stiamo cercando di capire se il dollo per 415 bis deve essere un accesso immediato al fascicolo e non quattro passaggi e questo il problema non vogliamo essere Silicon Valley ma neanche torni manere però al paleolitico da cui ci siamo mossi quindi questo è un accorato appello sia al VGC e sia al ministero dell'altro giorno in tribunale a Roma è caduto un soffitto quindi non possiamo fare con degli strumenti superati e inadeguati un lavoro così qualificato per quello che è la giustizia quindi adesso passo la parola all'avvocato professore d'amico Pietro Pomanti che poi introdurrà la dottoressa l'argomento che dettaglierà la dottoressa Paola della Vecchia quindi Pietro Pomanti sulle sanzioni sostitutive e giustizia riparativa sono argomenti che tutti trattano e li abbiamo poi individuati in questi tre giorni anche in funzione delle disponibilità dei relatori ma tanto è tutto che deve tornare quindi prego grazie Irma grazie al Consiglio dell'Ordine dell'Invito e devo dire parlare dopo la dottoressa Roia è sempre difficile perché in realtà ognuno ha il proprio taglio espositivo però effettivamente quando ci si trova di fronte a una sequenza di nozioni e tutte queste che arrivano in questa maniera poi uno si chiede se è all'altezza di spiegare il proprio argomento nella stessa maniera io sono un po' facilitato perché il tema ovviamente è quella della giustizia riparativa è un tema un po' più fumoso permetto questo termine che è tecnico ma al momento forse ha proprio un senso riflettevo soltanto su questa preparazione così specifica il dibattimento sono tutte norme tecniche precise che ci deve trovare preparati subito e facevo anche la stessa riflessione un po' come noi avvocati che noi abbiamo un compito sempre quello un po' più difficile degli altri questo lo voglio sottolineare perché noi in realtà di questa riforma dobbiamo studiare tutto dall'inizio alla fine perché poi noi all'imputato non gli possiamo dire io adesso ti difendo solo il dibattimento in primo grado ma io lo difendo dalle indagini fino a quando sta nell'esecuzione e quindi questo approccio alla riforma noi dobbiamo avere un approccio ovviamente anche prognostico di quello che potrà succedere lo dobbiamo anche calibrare con quello che è il suo avvita precedenti con quelle che sono altre condanne con altri procedimenti penali pendenti parlava il professor Spanger della sinergia adesso non vorrei insomma che bisogna avere ovviamente talvolta non è una sinergia semplice è una sinergia molto complicata e talvolta appunto scelte di questo tipo più ci si presentano scelte e secondo me più la professione diventa difficile perché poi c'è sempre la scelta che piace che non piace che va bene che non va male e non sempre si ha la palla di vero di quello che potrà accadere e questo è un passaggio credo decisivo e centrale quindi ci deve trovare pronti in tutto questo io sentivo con estrema attenzione e ogni innovazione dicevo questa la so questa mi manca questo la devo approfondire e c'è già qualcosa che non gira perché quando c'è una riforma di questo tipo allora uno dovrebbe dire ma insomma dovrebbe essere una riforma piuttosto organica che ci consente di guardare tutto in maniera fluida invece già ogni tanto ci inseriscono delle norme all'incirca l'altra volta mi riguardavo la messa alla prova effettivamente la messa alla prova risale non so quanti anni è dietro e noi la troviamo nelle aule per reati stradali e poco altro cioè ci sono degli istituti che stanno lì fermi immobili nel tempo non solo di procedura penale ma anche di diritto sostanziale tra tutti il traffico di influenze ha dormito non so per 7-8 anni poi dopodiché è diventato l'hanno rispolverato nella giurisprudenza quindi questo credo che sia un passaggio chiave dobbiamo trovarci preparati all'altezza il tema e vado anche velocemente mi scuserò per la brevità dell'intervento ma per un'altra questione che riguarda l'unione delle camere penali poi mi dovrò allontanare però giustizia riparativa sarà ripercorso questo tema nel corso delle giornate e ovviamente anche dagli ulteriori allenatori che mi seguono quando è entrato in vigore il 131 bis norma sostanziale è entrato un po' in sordina ne avevamo fatto due tre convegni e poi soprattutto ho assistito a degli interventi di professori persone molto più autorevoli che hanno molto più conoscenza una norma così inserita all'interno osservavamo che era una norma quasi fosse una bomba orologeria perché effettivamente che un poche righe aveva introdotto aveva aperto complemento uno scenario di tutte norme di diritto sostanziale la graduazione la teoria gradualistica del reato aveva iniziato a staccare quella giurisprudenza sull'oneoffensività un tema dell'eseguità dell'offesa aveva iniziato a inserire credo per la prima volta in una norma sostanziale il concetto di offesa che noi andavamo a ricavare nel 49 in tutte le disposizioni nella dottrina del diritto penale c'è una norma così stretta e così piccola ma di una potenzialità incredibile ecco io credo che le norme che riguardano la giustizia riparativa nel nostro sistema se ne vogliamo dare una lettura un po' formale si è una giustizia riparativa che è introdotta per adeguarci alla direttiva 2012 del 2000 e 2012 la 29 da decisioni del Consiglio d'Europa dobbiamo uniformarci a un sistema comunitario ed europeo e quindi questa giustizia riparativa deve entrare all'interno l'esaltazione della vittima esaltazione in termini impropri ovviamente nella considerazione della vittima all'interno della questione c'è tutta una riforma che ovviamente noi capiamo perfettamente che deve entrare perché si tratta di un sistema organico e ovviamente in questo sistema organico sovranazionale questo è fondamentale dopodiché leggiamo le norme di questa riforma che riguarda la parte della giustizia riparativa e ci dà tutta una serie di questioni e ci dice questo deve essere un'adeguata informazione serve la volontaria spontanea partecipazione occorre a questa presa di coscienza questa ricomposizione tutte norme che sono perfette se non anche leggendo che effettivamente questa indicazione della riparazione questa giustizia riparativa che mal si concilia con la giustizia punitiva che è quella nostra cioè quella della pena ci lascia a un certo punto un attimo siamo un po' spiazzati quanti tutti noi abbiamo studiato sul profilo dell'offesa l'offesa il reato fatto offensivo tipico l'offesa al bene giuridico i valori il valore che ci porta avanti e a un certo punto c'è questa indicazione e considerazione di questi valori che sono al centro delle fatti specie adesso ci chiedono un attimo di spostare l'attenzione invece su scendere un po' di livello andare su una sorta di giustizia riparativa e quindi che letto tra gli interventi c'è uno del professor Bartoli sul sistema penale in particolare molto molto efficace in cui si dice a un certo punto che ci dobbiamo voltare su un sistema che è quasi incompatibile con tutto quello che abbiamo visto prima cioè concentrare un po' più l'attenzione tra quelle che sono i rapporti tra la vittima e l'autore dell'offesa recita la norma sia pur non solo sul piano privatistico ma con l'ausilio di soggetti terzi tra cui il mediatore imparziale si chiede anche un contesto di socialità per esempio i familiari e tutto questo all'interno di un sub procedimento certamente non penale che tende alla riparazione e allora noi dobbiamo capire ma questa giustizia riparativa dove la collochiamo in effetti cioè ci piace tutto questo sistema siamo pronti ad affrontarlo ma dove lo andiamo a collocare nelle norme condicistiche perché a un certo punto è ancora non entrata in vigore tutte queste disposizioni iniziano qui a giugno che dovrebbero iniziare a giugno del prossimo anno e il giugno del corrente anno vedremo anche in che maniera bisogna istituire questi centri di riparazione dobbiamo formare mediatori chi sono questi mediatori come saranno formati questi mediatori e che capacità avranno questi mediatori non è una figura nuova nel nostro sistema quella del mediatore perché effettivamente pochi giorni fa ai minori nell'aula avevamo questi mediatori con i minori che già ci dava un po' di parvenza di situazione abbiamo anche dei percorsi già introdotti al giudice di pace penale ma insomma ci chiedono di attendere questa valutazione e quindi da lì sorgono tutta una serie di problematiche sorgeranno un problema di carattere pratico che però devo dirvi qualunque cosa possa io dire secondo me avrebbe poco senso perché occorre ovviamente vedere la sperimentazione ricordo quando perché era il momento che era appena diventato avvocato quando era cambiato col procedimento accusatorio c'era l'esposizione delle prove quella che ha richiamato ci facevano le simulazioni del allora nuovo processo penale e si parlava a mezz'ora di come bisognava esporre le prove e ovviamente dopo una settimana quella norma non ha mai trovato attuazione perché le prove non si espongono si chiede l'ammissione testa in lista visto mi riservo e dura tutto due secondi cioè la preoccupazione forse non è neanche una preoccupazione la possibilità è che tutto questo che noi troviamo nella carta poi non so quanto troverà nell'attuazione pratica effettiva riforma certamente per la giustizia riparativa le norme che dovrebbero riguardarlo essenzialmente sarebbero quelle oltre l'impulso anche d'ufficio che possa dare il giudice di battimento è quello di procedere a un percorso riparativo in caso di esito positivo nella riparazione questo vale come remissione tacita della querela ci potevamo arrivare però possiamo anche riflettere che per poter fare un percorso riparativo con un esito favorevole ci deve essere la disponibilità della persona offesa e quindi se noi abbiamo la disponibilità della persona offesa possiamo fare anche una remissione di querela senza far nessun percorso per dirla in maniera un po' più semplice poi ci si dice no ma può valere comunque perché tu puoi avere l'attenuante della riparazione in questo caso non solo di carattere patrimoniale articolo 62 numero 6 ma se tu adotti o comunque esprighi un percorso riparativo con un esito favorevole hai la possibilità di avere questo attenuante sì effettivamente sì diciamo allarga il panorama della riparazione a quelli che non sono reati estrettamente di carattere patrimoniale e quindi ci lascia più spazio per poter avere un attenuante tutto questo per un attenuante non che sia poco un attenuante in determinati casi ma tutto questo ha questo senso e poi infine si dice anche perché se tu effetti questa le disposizioni principali che riguardano questo istituto se tu effetti questo percorso di riparazione con un esito ovviamente favorevole potrai anche beneficiare di questa sospensione condizionale breve e quindi hai una sospensione condizionale breve questi gli effetti principali poi abbiamo l'istituto diciamo al centro della giustizia riparativa che noi però già abbiamo per cura della sospensione del procedimento con la messa alla prova ampliati i limiti effettivamente questo è un istituto che in determinate fasce di reato trova un'applicazione pratica assai frequente reati stradali per dirne qualcuna ma insomma molti altri reati questo viene ampliato e verrà ovviamente specificato con una maggiore articolazione di questa possibilità di riparare in qualche misura diciamo l'offesa il danno il rapporto anche lì si aprono degli scenari piuttosto importanti e poi la possibilità del giudice col 129b sta anche di dare impulso lui stesso a questa riparazione troveremo questo meccanismo non solo nel giudizio di primo grado lo potremo trovare nel corso dell'appello lo potremo trovare nell'esecuzione ma in fondo questo già c'è io personalmente a una condanna per l'ergastolo di un di un di un di un mio assistito la sorveglianza auspica e anche attraverso gli assistenti sociali che vi sia questa ricomposizione con la vittima del reato e quindi sostanzialmente tendono a far incontrare si svolge questo ma si svolge in maniera non procedimentale non seguendo un procedimento ben definito quindi questo potrebbe portare delle indicazioni diciamo più naturali per poter trovare una composizione di questo tipo questo il quadro di sistema la riparazione non è un qualcosa che noi esce da nulla lo avevamo già nel nostro ordinamento l'ho detto è un qualcosa che tende ad aprire quelli che sono i confini considerazioni un po' più di carattere generale lasciando poi sulla parte tecnica che mi segue la prima è riparazione e mediazione diciamo la stessa cosa tutto quello che ho letto ho cercato di leggere il più possibile si dice all'incirca sì la riparazione all'interno della mediazione anche se a mio avviso sono nozioni completamente distinte perché riparare è riparare è mediare è trovare un punto di incontro la seconda questione è riparare che cosa si ripara un danno l'offesa il rapporto la frattura si dice una ricomposizione sociale però la norma che definisce quella la riparazione la giustizia riparativa parla anche dell'offesa e qui abbiamo qualcosa che mal si concilia perché la nozione di vittima che è una nozione che entra nel nostro sistema un po' a gamba tesa passate il termine è un qualcosa che dobbiamo poi distinguere da quelle che sono le concezioni nostre del diritto penale tra il soggetto passivo della condotta il soggetto passivo del reato il titolare del bene giuridico che è offeso insomma entriamo in un campo piuttosto frastagliato e quindi è inserita anche una nozione di vittima specifica nella norma che io in realtà ho letto tutti i commenti ma ancora non ho capito cos'è questa vittima specifica comunque credo di aver capito che in alcuni casi in cui non si riesce a determinare una vittima ben determinata parlano addirittura di alcuni primi commenti nei casi di procedimenti a carico di ignoti si possa comunque convogliare e cercare di attrarre all'interno una vittima specifica che non è la vittima di quel singolo fatto di quel singolo reato ma di un fatto analogo o attorno o qualche cosa che ruota attorno quel fatto reato queste le osservazioni vi è un altro passaggio che non si può non considerare siamo in un momento in cui è come se il nostro sistema in questo momento ha due anime da una parte abbiamo un sistema che vuole una pena feroce intransigente irreprensibile 4 bis e 41 bis tra tutti si dibatte come pazzi passate il termine ovviamente in senso figurato su questo ultimo baluardo del fine penamai del 41 bis su determinati automatismi il professor Spanger ovviamente ne potrebbe parlare per sempre e dall'altra parte quindi abbiamo questa pena così intransigente abbiamo questo nucleo di reati del 4 bis implementato di continuo tra i reati contro la pubblica amministrazione impossibilità di determinare sospensioni dell'esecuzione della pena corte costituzionale e dall'altra parte ci si prospetta una sorta di giustizia quasi amorevole caritatevole di amicizia di ricomposizione c'è un qualcosa che secondo me stride all'interno da una parte abbiamo talvolta questi approcci giustizialisti viene detto alcune volte un populismo giustizialista o giustizialismo a seconda da come lo si vede dall'altra parte si chiede di riparare di trovare forse scelte di campo bisognerebbero essere fatte in maniera un po' più organica per capire da che parte poter giocare a meno che come diceva il professor Spanger non ci troviamo di fronte ad una fascia intermedia bassa che lì bisogna essere tutti buoni e senza pena e poi se siamo in alto dobbiamo essere cattivissimi come se la pena possa cambiare però e questo devo dire e i principi della pena possano cambiare a secondo della tipologia di reato e questo è forse il tema delle sanzioni sostitutive e proprio quello il tema centrale della questione un'ultima considerazione per poi chiudere ovviamente queste norme di giustizia riparativa si debbono confrontare anche con gli altri sistemi di carattere europeo common law civil law il precedente il valore del precedente dell'uno dell'altro insomma ognuno ha le proprie caratteristiche noi su questo siamo abbastanza credo di non sbagliare il nostro sistema è piuttosto rigido sul punto ci ha ancorato a degli elementi centrali che non su cui ovviamente è impargnato tutto il sistema d'improvviso chiedersi di improvviso di dover fare delle scelte e quindi rivolgersi non più a una difesa pura in un contesto ma a cercare di trovare una mediazione qualcosa che è fondamentale importante centrale ma ci sono delle grandi difficoltà pratiche ci saranno per noi primo fra tutti che per accedere alla giustizia riparativa occorre un riconoscimento sostanziale del fatto e qui secondo me noi entriamo in un campo minato per noi avvocati perché questo deve essere fatto prima di un eventuale superamento della riparazione quindi il rischio è che noi prospettiamo o noi assistiamo un soggetto che questo soggetto poi a un certo punto viene ammesso a questo percorso riparativo e questo percorso riparativo per qualunque situazione non dovesse ovviamente portare ad un esito favorevole quindi e quelle conseguenze ci troveremo in una situazione piuttosto pregiudicata perché comunque comporta un riconoscimento sostanziale del fatto e questo credo che sia un punto che mal si concilia con il fatto che comunque noi dobbiamo il nemotenetor se detergere il principio che comunque anche il silenzio deve essere mantenuto il principio che portare un proprio assistito fargli ammettere o confessare un fatto o qualcosa che è molto delicato e molto difficile sicuramente deve essere condiviso con l'importanza ma un punto nevralgico perché nessuno ci assicura che poi questo percorso riparativo possa andare vado velocemente alla conclusione che lo stesso nel processo minorile nel corso di un'udienza in cui ovviamente era stato richiesto la messa alla prova lo stesso giudice diceva ma noi richiediamo adesso su questo fatto ora per allora oggi ad oggi rivedendo quel fatto lei ammette delle sue si cercava ovviamente di creare questa sorta di riconoscimento che non progiudicasse l'esito negativo e quindi un giudizio abbreviato che veniva effettuato a tribuna di minorenni hanno un'esperienza molto più avanti di noi per cui bisogna mettersi a fare questi riconoscimenti un po' vaghi tant'è che la Roma parla di riconoscimento sostanziale del fatto era un materia di un senza entrare nel fatto comunque di un reato che il fatto c'era e bisognava ovviamente valutarne la consapevolezza è l'elemento soggettivo il fatto io lo posso riconoscere ma io non riconosco l'elemento soggettivo che riconoscimento sostanziale posso fare e allora si diceva ma rivalutando qualche indice oggi lei ripensando in quel momento insomma ovviamente poi dobbiamo anche capire se questa giustizia riparativa basterà un riconoscimento generico prudenziale o qualcosa del genere non vuole qualcosa di pieno perché lì a quel punto bisogna fare una scelta di campo insomma questo per dire che il tema della giustizia riparativa è ancora alla fase embrioniale possiamo dire dovrà prendere tutta una serie di approfondimenti e sicuramente riguarda per la parte della sospensione messa alla prova la fascia intermedia ma la disposizione prevede che la giustizia riparativa non abbia limiti per quanto concerne qualità e tipologia di reati cioè può guardare anche reati tant'è che si applica nella fase di esecuzione o la sorveglianza può applicarsi per ad esempio beneficiare di una liberazione condizionale o di qualche altra questione cioè può trovare un'applicazione trasversale perché non riguarda soltanto per l'estensione del reato ma può guardare per attenuanti per benefici per tutti per permessi premio potrà riguardare tutto un qualcosa di centrale però ha questo ostacolo questo suo presupposto da una parte che talvolta rappresenta un elemento insormontabile credo che prima ancora di nell'ambito di tutta l'intera vicenda della riforma questo sia sicuramente una piccola isola forse felice che può trovare uno sviluppo ma occorre prepararsi parlo per gli avvocati occorre prepararsi con estrema attenzione avvicinarsi con estrema attenzione questa approfondire determinati circostanze e soprattutto attendere queste prime pronunce che già adesso iniziano ovviamente non essendo in vigore ma iniziano già a facciarsi per esempio per quanto riguarda lo scorpo e scioglimenti dei cumuli poi ovviamente abbiamo ormai dei social e degli argomenti dove ci arrivano le decisioni di tutta Italia il presidente dottoressa Roia ci faceva presente qual è l'atteggiamento può essere l'atteggiamento di un tribunale rispetto a una questione della riforma o meno ma se ci mettiamo a seguire le pronunce di merito di tutta Italia troviamo di tutto di più ecco perché volevo dire che talvolta bisogna essere anche un po' creativi nel senso che talvolta bisogna anche prepararsi a magari a ipotizzare qual è una questione che verrà sollevata è una questione che magari potrà essere risposta alla Corte Costituzionale per poi non ritrovarci come quei figli minore di contrada che magari non possono avere accesso ad alcuni benefici in questo senso concludo e grazie per l'intervento sì però io credo che le decisioni di merito vadano attentamente valutate perché ci permettono di cogliere il tipo di problemi che abbiamo per esempio quando la dottoressa accennava il problema della responsabilità degli enti va ricordata la sentenza di Milano la quale ha detto che il criterio di definizione del procedimento va tarato sul giudizio ordinario cioè su quello della persona fisica c'è stata già una sentenza di Milano del Tribunale Milano che ha ritenuto che ci sia una discrasia e che quindi a livello interpretativo si possa ricostruire il criterio di definizione per gli enti sulla base dello stesso parametro tenuto per quanto attiene la persona fisica ricordavo scusatemi che domani scadono i termini per la domani il 30 per la querela cioè domani l'ultimo giorno per presentare la querela a chi ha situazioni in itinere ricordo anche la sentenza della Corte di Cassazione che chi ha avuto la costituzione di parte civile va superando la mancanza della querela se c'è stata costituzione di parte civile per un reato il fatto che sia diventato perseguibile la querela è sufficiente non sarebbe necessario l'atto successivo mentre invece questo almeno ecco direi che se la Cassazione ogni tanto intervenisse più sollecitamente a definire qualcosa penso al 581 comma 1 ter non farebbe un'opera molto buona cioè magari cogliendo un'occasione di un'eccezione infondata del tutto infondata per metterci dentro un obiter dictum che risolverebbe i problemi e l'altra cosa che volevo dire stiamo aspettando si sta aspettando e mi pare che sia già abbastanza tardiva l'approvazione di quel disegno di legge d'urgenza che riguardava la possibilità dell'arresto in flagranza e mancanza di quarela è passata in un ramo del Parlamento quella con le aggravanti anche però a un certo punto insomma se i tempi della giustizia sulle questioni d'urgenza permettono di come dire aspettare due mesi credo che anche per la giustizia riparativa a giugno non avremo assolutamente niente io ringrazio no no professore è lei che è il direttore d'orchestra di questa sinfonia io ringrazio Pietro Pomanti che ci ha portato a vedere la doppia anima adesso dell'avvocato penalista che si sta formando cioè l'avvocato penalista duro del processo e l'avvocato penalista della giustizia riparativa e della mediazione penale devo dire con diciamo con soddisfazione che l'ordine degli avvocati romani nel 2019 quindi ante riforma cartabia non era proprio ancora previsto abbiamo iniziato con un centinaio di avvocati di colleghi e poi siamo arrivati e abbiamo concluso con 85 un corso di mediazione penale corso c'è qualche mediatrice che qua vedo in aula corso di mediazione che sono stati coraggiosissimi perché siamo partiti senza nessuna previsione ma immaginando che potesse essere uno strumento per uno scopo deflattivo il 4 marzo 2020 quindi a distanza di 4 giorni da lockdown eravamo in procura per rifinire proprio una convenzione cioè per una valutazione in qualche modo della mediazione penale del contenuto della mediazione penale perché è una giustizia altrimenti troppo conflittuale rimangono in piedi conflitti la mediazione penale in altri stati ha portato già a una previsione di recidiva cioè nel senso la mediazione ha ridotto la recidiva e quindi noi ci crediamo ci abbiamo creduto sono tutti strumenti che servono per amministrare una giustizia che forse è troppo penalistica cioè nel senso è troppo penale e quindi troppo penale ormai la macchina è troppo ingombrante questo abbiamo quindi 85 mediatori penali stiamo aspettando abbiamo costituito un dipartimento della mediazione penale che insieme a Vincenzo Comi coordiniamo e quindi abbiate pazienza i mediatori che sono qui perché è in definire in via di definizione anche stiamo aspettando l'elenco che faranno al ministero il giugno 2023 quindi questo per dire che noi siamo pronti purché la giustizia funzioni gli avvocati possono lavorare e gli assistiti abbiano in qualsiasi modo delle risposte certo ho spiegato di tornare a quel contesto adeguato di strumenti e risorse Presidente Dottoressa Paola Della Vecchia grazie per essere qui per accettare questa richiesta prego grazie a voi per l'invito il tema che mi è stato assegnato è quello delle pene sostitutive è un argomento che mi è stato assegnato nelle riunioni di sezione nelle periodiche riunioni di sezione che noi abbiamo fatto sulla sulla riforma cartabbia ci siamo divisi gli argomenti quindi è un un tema su cui vi offro le mie riflessioni e qualche diciamo anche elemento della mia esperienza di applicazione concreta dell'istituto finora molto timido che però potrebbe avere maggior spazio anche nelle pene sostitutive le esigenze di accelerazione e di snellimento sono dichiarate e come diceva il professor Spanger il range di pena considerato quattro anni è diciamo è quello che troviamo nella maggior parte è quello che occupa la maggior parte dei giudizi monocratici quei giudizi che pesano per il diciamo per gli obiettivi per il raggiungimento degli obiettivi fissati in Europa quindi dicevo gli obiettivi dichiarati sono un effetto deflattivo per le impugnazioni l'appello in particolare la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità l'applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non è appellabile l'altro obiettivo è la riduzione del fenomeno dei liberi sospesi quindi la deflazione dell'ufficio di sorveglianza l'ordine di esecuzione delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare non è sospendibile quindi queste pene all'esito del percorso dell'impugnazione saranno immediatamente esecutive l'altro obiettivo non dichiarato è quello della riduzione del sovraffollamento carcerario anche perché mi riallaccio a quello che diceva l'avvocato Conti si è visto nell'esperienza diciamo il dato statistico registra una minore incidenza della recidiva per chi riesce a fruire delle misure alternative alla detenzione piuttosto rispetto a chi invece entra nel sistema carcerario il legislatore per far tutto questo ha rivisto il sistema delle sanzioni sostitutive che aveva trovato scarsissima applicazione pratica e quindi non si parla più di sanzioni sostitutive ma di pene sostitutive perché hanno natura sostanziale vengono applicate dal giudice della cognizione il catalogo secondo il sistema della riserva di codice viene fissato nell'articolo 20 bis lasciando alla legge 689 dell'81 la disciplina di dettaglio lo scopo del legislatore attraverso le pene sostitutive è di dare una risposta sanzionatoria più individualizzata più rispondente alla finalità rieducativa della pena e nello stesso tempo almeno questo lo scopo più efficace perché immediatamente esecutiva quindi le esigenze di trattamento vengono anticipate alla fase di cognizione e non vengono rinviate ad una fase esecutiva che può non essere vicina le pene sostitutive sono emancipate dalla sospensione condizionale della pena e questo per renderle più appetibili e più immediatamente operative quindi la pena detentiva breve può essere sostituita laddove non sia concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena e la pena sostitutiva non è sospendibile a sua volta è prevista la non menzione delle pene sostitutive ma non la sospensione condizionale il catalogo vi dicevo è fissato dall'articolo 20 bis quindi le pene sostitutive sono quattro rispetto alle sanzioni sostitutive viene eliminata la semidetenzione e la libertà controllata quindi entro un anno è applicabile la pena pecuniaria sostitutiva per le pene detentive fino ad un anno fino a tre anni il lavoro di pubblica utilità fino a quattro anni la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva è stato ampliato il parametro edittale rispetto alle sanzioni sostitutive in maniera da allineare le pene sostitutive all'affidamento in prova al servizio sociale quindi perché aveva già come parametro edittale quello dei quattro anni i criteri per l'applicazione delle pene sostitutive criteri che poi rispondono ad un obbligo motivazionale del giudice sono quelli del minor sacrificio della libertà personale quindi c'è un criterio di graduazione e i criteri di scelta devono rispondere alla si deve cercare di nello scegliere la pena sostitutiva quella più idonea alla rieducazione del condannato e che assicuri il reinserimento sociale questi sono i criteri fissati dall'articolo 58 della legge 689 questo diciamo per assicurare una finalità di trattamento riallacciandomi a quello che diceva l'avvocato Pomanti nelle scelte nel trattamento e nella finalità di assicurare il trattamento del condannato il giudice può imporre particolari prescrizioni e quindi ad esempio potrebbe anche rientrare per questo canale potrebbero rientrare i programmi di giustizia riparativa le cause oggettive di esclusione sono fissate dall'articolo 59 quindi quei casi nei quali non è possibile accedere alle pene sostitutive il fallimento di un percorso precedente di applicazione di una sanzione sostitutiva l'applicazione di una misura di sicurezza personale dice il legislatore salvi casi di incapacità parziale di intendere e di volere ma poi lì si tratterà di vedere in concreto sono esclusi i reati previsti dall'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario visto che mi occupo dei reati di pubblica amministrazione la riforma cartabbia ha eliminato dal catalogo dei reati ostativi i reati di pubblica amministrazione che quindi possono beneficiare oggi dell'affidamento in prova al servizio sociale degli altri benefici previsti dalla legge dell'ordinamento penitenziario nel caso delle pene sostitutive però è fissato un ulteriore elemento di diciamo di sbarramento perché la pena sostitutiva per questi reati laddove ovviamente rientrino nel range edittale che abbiamo detto quello dei quattro anni richiede il riconoscimento della circostanza attenuante della collaborazione quindi l'articolo 323 bis del codice penale dicevo le pene sostitutive devono tenere conto della esigenza di rieducazione dell'esigenza di trattamento quindi questa finalità di trattamento e di individualizzazione viene considerata nella scelta della misura perché va scelta la misura in ragione dell'età della salute fisica o psichica del condannato delle sue situazioni particolari di tipo familiare le diciamo delle eventuali dipendenze quindi disturbi da uso di sostanze stupefacenti alcol altre forme di dipendenza e questo per evitare il più possibile almeno nella finalità di ridurre una diciamo un pericolo di recidiva col con l'assicurazione la il temperamento il recupero il diciamo il trattamento di queste forme di dipendenza che possono rappresentare una spinta al delitto importante dicevo l'anticipazione è quindi delle pene sostitutive è alla fase di cognizione nella fase di cognizione si chiede al giudice una valutazione simile a quella del magistrato di sorveglianza possono essere applicate con la sentenza di condanna con la sentenza di giudizio abbreviato e qui c'è anche come diceva il professor Spanger questa volontà di rendere appetibili i riti alternativi la possibile riduzione di un sesto in caso di rinuncia all'impugnazione nel caso di giudizio abbreviato con il decreto penale si può applicare non solo la pena pecuniaria sostitutiva ma anche il lavoro di pubblica utilità sostitutivo nel limite di un anno ci diciamo ci si chiede un cambio di cultura sicuramente di mentalità e di approccio da parte di tutti gli operatori di giustizia soprattutto perché il legislatore ha previsto un sistema di applicazione di tipo bifasico quindi la pena sostitutiva opera alla lettura del dispositivo perché con la lettura del dispositivo si stabiliscono i parametri entro i quali le pene sostitutive possono essere scelte e possono essere richieste e scelte dal giudice è stata prevista una fase successiva quindi il rinvio dell'udienza a 60 giorni entro 60 giorni per acquisire informazioni da parte del giudice per acquisire l'eventuale programma da parte dell'Uepe per acquisire informazioni sulla persona del condannato e sulle sue esigenze di tipo familiare di tipo di cura trattamento e quindi che cosa si è fatto nella prassi operativa è vero diciamo c'è scarsità di mezzi l'Uepe è già particolarmente gravato affaticato ci siamo confrontati tutti con i tempi lunghi dei programmi per la messa alla prova si è cercato di se possibile insomma nei limiti del possibile attraverso vari protocolli di ridurre al minimo i casi di rinvio diciamo i casi di applicazione concreta della seconda fase quindi laddove possibile il giudice alla lettura del primo dispositivo può nella stessa udienza pronunciare anche il secondo dispositivo e qui dicevo c'è necessità di un cambiamento di cultura di approccio da parte del giudice da parte della difesa e da parte degli altri operatori ora questa logica aziendalista aziendalistica del fare numeri del cercare di essere veloci non può trasformare l'applicazione della pena sostitutiva in una specie di non so di sconto di di saldo di fine stagione però nell'ambito di una pena congrua giusta e di un'esigenza di trattamento che eviti una ricaduta nel reato va va affrontata va applicata va gestita e quindi da parte e richiede la necessaria collaborazione della difesa perché questa è una riforma che operativamente può dare numeri positivi soltanto con la collaborazione della difesa quindi da parte della difesa in prima battuta il rilascio di una procura che comprenda anche la procura alla richiesta del consenso alla richiesta di pena sostitutiva la richiesta di pene sostitutive in sede di formulazione delle conclusioni anche in via subordinata su questo no lo so però io dico almeno in quei casi nei quali non si discute sulla sulla responsabilità parlo ad esempio nei giudizi direttissimi oppure laddove non ci sia contestazione di responsabilità laddove non ci sia questa richiesta di applicazione di pene sostitutive in sede di conclusioni comunque dicevo la procura estesa alle pene sostitutive consente di fare la richiesta di prestare il consenso alla lettura del dispositivo anche perché non c'è il rinvio non è previsto nel senso che non è previsto allora qui si è detto non è previsto il rinvio per munirsi di procura speciale per la pena sostitutiva poi sta al buon senso e alla logica di ognuno cercare di ovviare il più possibile non può essere una prassi anche perché il legislatore allora c'è un'esigenza di celerità e di snellimento e il 545 bis secondo comma non può confliggere con questa esigenza quindi già il fatto di aver previsto questa seconda fase confligge con gli obiettivi di celerità del processo perché si crea una stasi nel processo di cognizione con i problemi conseguenti di deposito della sentenza sospensione dei termini per non parlare dei processi nei quali sono applicate misure cautelari perché c'è la sospensione del termine di custodia ma soltanto per 60 giorni è una norma eccezionale quindi è solo per questo periodo che si può diciamo che il legislatore ha previsto la sospensione e quindi dicevo la difesa si dovrà attivare laddove abbia interesse a richiedere una pena sostitutiva per fornire al giudice tutte le informazioni necessarie penso alle pene pecuniarie sostitutive il la che voglio dire forse è la cosa più facile produrre la documentazione volta ad attestare quale sia il reddito del 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 condannato per stabilire il valore il valore giornaliero su cui determinare parametrare la pena la pena pecuniaria ma anche nel caso del lavoro di pubblica utilità sostitutivo sarà possibile per la difesa indicare l'ente prescelto fornire una dichiarazione di disponibilità e un programma anche generico di lavoro in questo caso si potrebbe addirittura evitare la seconda fase laddove questo fosse l'obiettivo diciamo dichiarato o perseguito laddove anche ci sia la diciamo la seconda fase quindi l'udienza di rinvio anche in questo caso sarà possibile per la difesa attivarsi considerate le interlocuzioni con l'UEPE sono necessarie soltanto per la semilibertà sostitutiva perché in tutti gli altri casi l'UEPE potrebbe essere tranquillamente bypassato e quindi si tratta di una riforma dicevo sulla quale ci dobbiamo confrontare per cui il giudice deve dare avviso alla parte laddove è diciamo laddove ci sono le condizioni per accedere alle pene sostitutive questo è previsto dalla norma e questo va fatto secondo me perché è un avviso che va dato e che risponde ad un dovere di motivazione e di garanzia del contraddittorio alcuni colleghi mi dicono no ma io se ritengo di non dare le pene sostitutive non do l'avviso oppure altri lo mettono nel dispositivo diciamo indicano nel dispositivo che non vi è diciamo che il giudice ritiene che non sia possibile l'accesso alle pene sostitutive sulla base dei criteri che vi ho detto quindi finalità di trattamento e esigenza di prevenzione e però questo è un aggirare una riforma che non 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 possiamo con una modalità che non possiamo non possiamo seguire noi siamo soggetti alla legge la legge è questa e va applicata e poi non so prima di giudicare una riforma così a priori abbiamo tutti i nostri le nostre riserve le nostre critiche però è comunque una riforma sulla quale dobbiamo confrontarci che comunque potrebbe avere delle possibilità di attuazione concreta ed anche di buona attuazione di una prospettiva positiva per il futuro non la ritengo in toto da bocciare da bocciare in toto da dire no 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 perché vi dico le reazioni dei colleghi sono state molto così molto paci molto critiche ma no ma come è possibile è vero diceva credo l'avvocato del professor Scalise in un processo potremmo avere un imputato che accede alla pena sostitutiva un altro che fa che però però si tratta esatto però sì anche prima noi facevamo lo stralcio in tre però sono esigenze pratiche non voglio dire possono essere risolte tre diversi giudici sì sì perché è pensato per l'unico imputato è così è pensato ma tutto il processo penale è pensato per l'unico imputato tutto il processo penale un imputato un reato un imputato un reato non è così e poi noi dobbiamo sfruttare dobbiamo trovare soluzioni creative così no il problema la ringrazio molto innanzitutto direi che anche col patteggiamento si può determinare sì allora ma questo è importantissimo perché per esempio un altro degli istituti di grande così appeal per la difesa è questa possibilità nel patteggiamento di concordazione dare il tipo ministero il tipo la durata della pena sostitutiva pene accessorie loro durata e la confisca sì esatto facoltativa facoltativa sì ma e gli effetti negativi e gli effetti indiretti vengono eliminati gli effetti indiretti sul piano disciplinare contabile e amministrativo e tra barrenze e patteggiamento perché ci sono anche benefici aggiuntivi no io ripeto vorrei dire una cosa io non sono qui il piazzista della riforma perché a me non mi interessa assolutamente nulla cerco semplicemente di spiegare ciò che è fra le cose che cerco di spiegare che sono quella che viene definita da alcuni milanesi che sono molto più davanti secondo me la cosiddetta pena progetto cioè in realtà noi le chiamiamo sanzioni sostitutive ma loro le chiamano già pena progetto cioè perché viene come ha detto giustamente lei è collegata anche feticola ma vorrei dire una cosa io presumo che voi avvocati lo sappiate ma voi sapete che due giorni di lavoro sostitutivo è un giorno di carcere due giorni di lavoro sostitutivo ora bisogna spiegare ad una persona che con due ore di lavoro di pubblica utilità sostitutivo si sconta un giorno di carcere e che naturalmente ti permette di continuare a svolgere tutta l'attività che votavi ma voi sapete che quella prima quella famosa fino ai quattro anni uno va a finire si in carcere anche se non ha la casa otto ore trova la soluzione per avere cioè sono benefici piacciono o non piacciono certo che è un giustiziale cioè io non sono né uno né l'altro cioè voglio dire questo è il panorama dell'offerta questo è il punto attenzione problemi naturalmente le agisto giustamente primo grado però se io ne appello riesco a ottenere lo sconto di pene da cinque vado a quattro posso ottenere in appello non l'ho chiesto in primo grado perché il collega non gliel'ha voluta dare io appello a ottenere la sanzione sostitutiva un problema si pone quando c'è l'udienza camerale perché con l'udienza camerale dell'abbreviato dal quale posso ottenere la sanzione sostitutiva e lì l'udienza non c'è perché è finita allora dobbiamo affinare una seconda udienza lì bisognerebbe trovare un meccanismo ma anche in appello ci sono udienze camerale non partecipate e allora non si capisce cioè non si capisce bisogna trovare i meccanismi sui quali applicare le sanzioni sostitutiva ho la sensazione che noi viviamo una parte lo stesso clima lo dicevo prima a Comi che abbiamo visto quando è entrato il codice dell'88 poi bisogna vedere come questi istituti si plasmano e come sostanzialmente si trovano anche il tipo di risposta ci vuole giustamente come ha detto lei una fase anche di sperimentazione utilissimi i protocolli eccolo cioè lo strumento del protocollo questa riforma questa riforma credetemi insomma ripeto non me ne frega niente lo dico con crudezza perché non sono qui venuto a fare il piazzista di una riforma che ho anche criticato come si può sapere però eravamo anche molto distanti io a lei all'inizio chi? io a lei all'inizio si ma uno comincia a studiarla incomincia a capirla e cerca di spiegare che cosa c'è cioè prima c'è un'azione culturale di rigetto perché c'è il profilo cognitivo il processo ha funzione cognitiva non ha funzione cognitiva questi strumenti sono cognitivi non sono cognitivi si può discutere anche se il 129 si applica sempre tutti i riti hanno sempre l'applicazione del 120 è cognizione piena non è cognizione piena la funzione del processo è questa cioè abbiamo problemi teorici e dogmatici però abbiamo una legge e a un certo punto dobbiamo anche applicarla o la sabotiamo o la applichiamo ora ci sono tanti strumenti che consentono perché questo è il discorso a voi io spero di non essere imputato onestamente ma siccome voi li gestite e li a un certo punto siete voi che dovete come dire avete questi strumenti quello che a me interessa è che voi siate a conoscenza degli strumenti voi li volete applicare li applicate non li volete applicare non li applicate però il primo dato è la conoscenza allora dire che due ore di lavoro di pubblico utilità un giorno di carcere che uno a un certo punto un anno di galera lo può scontare con una pena pecuniaria come quello di Nocera Inferiore che era un pusher che aveva otto mesi che ha fatto mille euro Cisterna diceva questo è un incentivo e la recidiva dare mille euro a uno che ha può essere giusto può essere giusto non lo so però bisogna a meno conoscere soprattutto vorrei sapere il pusher come li trova i soldi no ma li avevano sequestrato 500 a casa è un giudice magari un pusher normo inserito allora scusatemi però è vero che chi è ricco paga un milione sconto un anno però a un certo punto si parte da 5 cioè 5 euro fino a 2500 quindi voglio dire ci sono dei margini per discutere i protocolli sono utili i protocolli che permettono di realizzare questo è il problema perché se la riforma anche l'ha detto giustamente lei se ha un senso è anche nell'avvicinare le parti al processo in questo senso avvocato e imputato sono una parte ormai che devono lavorare in sinergia perché secondo me ci sono molti atti nei quali l'imputato decide personalmente oppure da una procura speciale un po' più l'avvocato fare semplicemente tutto quello che vuole questo è un altro passaggio secondo me importante che responsabilizza anche voi e che vi aiuta nelle scelte processuali se poi lo si riesce a fare anche con la magistratura ripeto io non amo i magistrati credo che si sappia non mi sono particolarmente simpatici ma ha ragione ha ragione più lontano ci sto meglio vivo anche se poi però devo dire dobbiamo spiegare il senso di una riforma ti lascia a piedi lasciami anche a piedi tanto non vado più in aereo arrivo col treno non passavano i treni niente l'ho pure portato a casa li tratta così come diceva il professor tranchina ricordatevelo anche voi la gratitudine e il sentimento del giorno prima io penso di aver terminato grazie se c'è altro no no oltre diciamo adotto intervento è anche un intervento che ci porta anche qui a riflettere no? questo mutamento questo ampliamento noi oggi non veniamo dal migliore dei mondi se aspettiamo tre o quattro anni per un affidamento in prova al servizio sociale quindi noi pensando di dover dare i nostri assistiti una risposta il più possibile cedere perché ci sollecitano loro ma quando fissano l'udienza e noi siamo con questi tempi io sto aspettando da tre anni un affidamento in prova al servizio sociale non è colpa della magistratura ma è colpa del tribunale ma è colpa dell'organizzazione delle risorse carenti di tutto quello che è e quindi questo dobbiamo risolverlo la Presidente Palmisano e con la Presidente Palmisano siamo in dirittura d'arrivo tra l'altro oggi ancora c'è Cesare Caia e la Camera Penale di un protocollo operativo per la messa alla prova le pene sostitutive e i programmi di giustizia riparativa di recupero per il reo e di assistenza alle vittime cioè che sostituisce i precedenti l'ultimo del 2017 ed anche qui il foro troverà delle indicazioni acceleratorie e facoltative tra l'altro per cui io ho già speso il mio modestissimo punto di vista come consigliere delegato che dobbiamo consentire perché agli avvocati di poter scegliere di anticipare i tempi quando prima si diceva mettere alla procura speciale già la possibilità delle pene sostitutive Cesare Caio subito ha detto no però per un avvocato torniamo al discorso del penalista puro fino a quando non c'è una sentenza noi siamo fortemente convinti che c'è possa essere una soluzione fino a quando non c'è una sentenza di condanna ma non è secondo me venir meno a questa convinzione creare subito i presupposti della pena sostitutiva anche perché il ragionamento è fine del 133 e quindi i depositi tutto ciò che possiamo depositare per la valutazione della pena da parte del giudice della personalità di imputato già lo facciamo quindi lasciare la facoltà di poter chiedere al giudice già di adoperarsi sin da subito al difensore e poter quindi diciamo avere un accesso più spedito alle penne sostitutive per me è una facoltà che non è un obbligo che non per carità non la poniamo come un protocollo vincolante ma a cui chi vuole accedere chi è avvocato vuole accedere chi è assistito vuole accedere deve poter fare quindi siamo addirittura d'arrivo con questo con il protocollo veramente la Presidente Palmisano tutto il tavolo di lavoro insomma siamo stati impegnati con determinazione e adesso cerchiamo di trovare questo accordo collaborazione e di portarlo a termine e allora prego io do la parola a Cesare Gai Foro di Roma ma anche componente del direttivo della Camera Penale è saltato nella locandina ma lo dico io autorevole e avvocato penalista novità per il difensore e il dibattimento e qua prendiamo appunti allora il mio intervento non vorrei che fosse la nota stonata di questa sinfonia che finora abbiamo ascoltato diciamo no sinfonia per la qualità dei musicanti diciamo perché non diciamo nota stonata perché la parte che mi riguarda si chiama novità per il difensore per il dibattimento e io siccome non mi piace insomma parlare di cose che si possono insomma comprendere leggendo agevolmente il codice ho fatto una cosa un pochino diversa cioè ho preparato un documento con il quale evidenzio quali sono le novità per il difensore nel dibattimento cioè ho fatto una tavola di raffronto poi la metterò a disposizione dei discenti perché così sarà più semplice ne ho data una pure alla dottoressa della vecchia così se la legge pure lei e magari diciamo condivide condivide ovviamente scherzo perché sarà la dottoressa della vecchia quale grande stima ho per lei ci conosciamo da tanti anni proprio nei rispettivi ruoti lei giudica i miei imputati colpevoli la maggior parte delle volte ma insomma voglio dire questo detto questo detto questo avevo pensato di fare un intervento spiegando le novità per il difensore ho chiamato questo mio intervento il nuovo difensore nella cartabbia è un nuovo difensore cioè chiariamo subito una cosa un aspetto che è importante per fare l'avvocato penalista oggi occorre essere strutturati cioè non si improvvisa più mi dispiace dire e dire questo ci fa piacere ma significa che oltre a studiare bisogna essere particolarmente pronti e sono stati ascoltati altri interventori che hanno rappresentato la necessità di un nuovo rapporto perché l'avvocato strutturato è l'avvocato che studia ma è anche l'avvocato che ha un nuovo rapporto con il suo assistito oggi il rapporto con l'assistito non è più quello di una volta una volta ti rilasciavano la procura speciale per richiedere il patteggiamento del giudizio abbreviato si fidavano di quello che facevi oggi le opzioni sono molte di più vorrei partire dalla prima mortificazione che ho avuto dalla riforma cartabia riguardo le sanzioni sostitutive allora io chi mi conosce lo sa sono un componente dell'avvocatura affannata così la chiamo cioè quelli che corrono da una parte all'altra delle aule lo sanno i giudici spesso lascio qualcuno che dice sta arrivando è un attimo di sopra insomma comunque a me piace moltissimo fare questo lavoro e chi mi conosce lo sa io nella vita avevo tre sogni fare l'avvocato penalista l'ho coronato fare il padre anche questo l'ho coronato più o meno bene il terzo è inconfessabile volevo diventare il centravanti della Lazio quello non mi è riuscito però diciamo sono abbastanza contento di quello che faccio e soprattutto tento di fare questo lavoro con una certa passione che mi è rimasta inalterata in oltre 30 anni di questa attività la prima mortificazione che ho avuto do la vuta con le sanzioni sostitutive entro in un'aula assumo la difesa di un bancarontiere e l'assumo nel dibattimento perché altrimenti gli avrei consigliato di scegliere un rito alternativo al dibattimento il dibattimento va come deve andare la prova della responsabilità è certa c'è una relazione del curatore fallimentare che definire come ha definito soave inquisizione il professor Spanger era poco perché c'era ci avevamo Torquemada davanti vestito da curatore fallimentare e praticamente alla fine ben consapevole dell'esito di questo processo che però avevo ereditato in un momento in cui non potevo fare niente che cosa ho fatto il mio cliente si vergognava addirittura di venire di fronte al tribunale perché oltre a essere molto brutto lo avrebbero trattato peggio di come lo dovevano trattare e mi faccio rilasciare la procura speciale per prestare il consenso alle misure alle sanzioni sostitutive delle pene detentive quindi arrivo lì bene e me la tengo io questa procura perché non la do al al presidente del tribunale che va in camera del consiglio e dirò a me stesso appena escono che mi danno quattro anni però mi danno le generiche mi daranno tre anni e nove mesi io gli butto lì la procura speciale e do il consenso alla detenzione domiciliare o alla semilibertà mi hanno dato quattro anni e un mese quindi voglio dire mi davano quattro anni e sei mesi non è e quindi voglio dire questo è un aspetto vorrei rappresentarlo perché con la camera penale di Roma della quale mi onoro essere il segretario l'ennesima volta anche lì i totem diciamo non cambiano mai noi ad esempio abbiamo opposto in questi protocolli un dato che secondo me rivendica la funzione del difensore ovvero si chiede nei protocolli che la difesa in qualche modo sia di ausilio all'applicazione delle sanzioni sostitutive il che è bellissimo sotto un certo profilo perché le sanzioni sostitutive che io non critico a prescindere lo chiarisco subito in questo mio intervento confuso però vi dico quello che vi devo dire ve l'ho scritto quindi però mi piace parlare di tante cose di cui si sono dette oggi che poi vogliono essere l'aspetto pratico di questa professione noi dobbiamo essere di ausilio ma vi chiedo perché questo ci chiediamo quando cerchiamo di improntare questi protocolli ma io devo discutere il processo e prima ancora di discutere il processo perché questo veniva chiesto con i protocolli per agevolare questo tipo di decisioni voi sapete che la decisione che applica una sanzione sostitutiva è una decisione che ha una motivazione semplificata rispetto a quella che dovrebbe a strimenti essere redatta voi sapete che nell'ipotesi in cui la sanzione sostitutiva lo ha detto prima la dottoressa della vecchia può essere immediatamente applicata se ci sono i presupposti faccio l'esempio più banale la detenzione domiciliare o un domicilio può essere può essere valutato positivamente la sanzione sostitutiva in luogo della pena detentiva sempre se non viene concessa la pena sospesa ricordatevelo perché questo è fondamentale ma se io do al giudice prima che si ritiri in camera di consiglio la mia disponibilità di una sanzione sostitutiva secondo voi faccio un favore all'imputato perché io mi pongo questo problema che è un problema serio rispetto a quella che è la funzione difensiva perché nel momento in cui sono arrivato a discutere un processo e questo evidentemente non è il caso di colui che ha reso una confessione nel corso di un'udienza di convalida perché lì lo sapete che lo condannano allora lì ci sono altri strumenti forse per poter arrivare a delle soluzioni migliori per il vostro imputato ci sta il risarcimento del danno non se ne è parlato ma determina lo sconto la diminuzione della pena per effetto di un'attenuante che è codificata da lontano 1927 ora questa riforma cartabia ha delle cose buone ma ha molte cose che sono particolarmente inattuabili e distoniche rispetto a quello che è la realtà e noi siamo abituati a confrontarci con la realtà allora primo problema che mi sono posto abbiamo parlato lungamente dell'udienza predibattimentale che il validissimo presidente dottoressa Roia ha criticato perché obiettivamente è qualcosa che è di difficile comprensione ma è di difficile comprensione anche per la difesa allo stesso tempo l'udienza predibattimentale può rappresentare uno strumento per la difesa per portare all'attenzione del giudice che deve decidere se questo processo si farà o meno degli elementi che magari sono stati poco valorizzati nella fase investigativa e allora come si riflette questo nei confronti del difensore perché noi di questo ci dobbiamo occupare il nuovo difensore nella riforma cartabia il nuovo difensore nella riforma cartabia deve stare inerte rispetto a un 415 bis io continuo a pensare che non sia così perché oggi il giudice del predibattimento a me piace chiamarlo così nel momento in cui dovrà valutare se questo processo merita di essere celebrato avrà a disposizione il fascicolo del pubblico ministero cosa che non ha nel momento in cui viene investito in un decreto di citazione diretta a giudizio perché di questo stiamo parlando non dell'udienza preliminare ovvero il giudice dell'udienza preliminare ha a disposizione tutto il patrimonio investigativo che il pubblico ministero gli pone a disposizione con le eventuali integrazioni che sono possibili ex articolo 419 del codice di procedura penale con attività svolte dal difensore e con eventuali arricchimenti del patrimonio processuale che possono avvenire anche in sede di udienza preliminare cioè il giudice predibattimentale ha il fascicolo del pubblico ministero nel fascicolo del pubblico ministero ci sta quello che ha fatto la polizia giudiziaria e poi ci possono essere anche le memorie l'interrogatorio le indagini difensive che consentono al giudice del predibattimento di avere una visione un pochino prospettica futuribile di quello che sarà il dibattimento che va a celebrare questo sicuramente è un'innovazione buona il problema che mi pongo io è questo ma adesso me la devo studiare perché in qualche modo devo mettere un ostacolo a questa udienza predibattimentale ad esempio che non si sia previsto che tra i tribunali di una certa caratura e di una certa portata come il numero di persone che ci lavorano questo non è stato previsto il giudice del predibattimento appartenga a sezione diversa rispetto al giudice del dibattimento sembra una banalità io sono certo della diciamo della bontà della valutazione di quello che fa la dottoressa della vecchia che siede nel collegio con la dottoressa Roia e quando fa il monocratico fa il giudice del predibattimento rispetto a un procedimento che che poi apporoda alla dottoressa Roia ma sono persone che si stimano si apprezzano o magari non si stimano e non si apprezzano e siedono nello stesso collegio perché può capitare anche questo è una sventura per chi lavora in un collegio con una persona che non apprezza però può capitare ma se io mi trovo un fascicolo della dottoressa della vecchia che stimo tantissimo come giudice del dibattimento perché ha valutato che quel dibattimento deve essere celebrato non parto con un preconcetto che questo è quasi colpevole lo dice lei allora già se lo mandiamo in un altro ma questo perché ma questo perché lei onestamente fa questa valutazione o semplicemente la circostanza che perché purtroppo non è che ve ne danno tante distanze nel senso sedendo nella stessa stanza lei tocca perché per me basta questo per essere incompatibile rispetto a ad un giudizio dibattimentale alla prova piena che viene assunto al dibattimento il fascicolo del pubblico ministero quello il giudice del dibattimento non lo deve toccare il giudice che celebra il dibattimento non deve avere nessun tipo di preconcetto e secondo me questa audienza predibattimentale qualche preconcetto lo determinerà altra situazione molto particolare mi sono fatto delle domande mentre leggevo questa riforma cartabbia è quella relativa alla prospettazione che si può avere si può dare la prospettiva che si può dare al giudice del predibattimento rispetto a quelle che sono le tesi difensive allora qua c'è un'altra distonia nella norma la lista testimoniale di cui parleremo un attimo anche sulla portata della lista testimoniale perché adesso che non mi possono più venire a dire che quelle liste del pubblico ministero che dicono riferiranno in ordine alla dinamica alle indagini di polizia giudiziaria svolte sono sufficienti a rendere ammissibile una lista testimoniale dove è previsto che un giudice del predibattimento e un giudice del dibattimento o meglio soprattutto il giudice del dibattimento valuti l'ammissibilità di una testimonianza perché oggi al difensore strutturato come dicevo prima è imposto di articolare non dico i mezzi di prova come fanno i civilisti vero che perché a questo non ci arriviamo e non non mi ci fate arrivare perché mi piglia l'infarto prima che che ne faccio una così di lista testi oppure tagliatemi le mani eppure la capoccia ma in ogni caso arriviamo al punto che dobbiamo porre il giudice del predibattimento perché secondo me la lista testi va depositata per quella udienza anche perché faccio un minimo inciso oggi ho provato il primo brivido in cui mi è arrivato un decreto di citazione diretta a giudizio che reca la data di ieri e quindi già mi ero tutto ringalluzzito perché ho detto ma guarda questi non ci hanno scritto che era l'udienza predibattimentale adesso gli faccio una bella questione c'era legato poi un altro foglio ovviamente dove si specificava che quella era l'udienza predibattimentale che si terrà quel giorno dove verranno valutati dove ci sono tutti gli abisi di rito quindi la possibilità di accedere alle sanzioni sostitutive di richiedere giudizio abbreviato perché poi al dibattimento contrariamente a prima non lo puoi più fare con il decreto di citazione diretta a giudizio patteggiamento e quant'altro che implica in qualche modo la necessità di avere un'interlocuzione anteriore al dibattimento con il assistito per decidere quello che bisogna fare e c'è scritto che la lista testi va depositata almeno sette giorni prima di quell'udienza dell'udienza predibattimentale sebbene ci sia la possibilità di articolare ulteriori mezzi di prova nell'ulteriore udienza dibattimentale cui vi rinvierà il giudice predibattimentale in un periodo che non può essere inferiore a 20 giorni quindi potendo articolare anche un'ulteriore difesa in ragione della circostanza che un giudice del predibattimento abbia in Camera di Consiglio deciso che quel processo si deve fare quindi il difensore strutturato ci deve stare sul pezzo in questo caso cioè deve dire al giudice del predibattimento ok ci sono quattro carabinieri che dicono che il nostro assistito quel giorno era allo stadio e in un momento particolarmente vedete che le mie diciamo conoscenze vengono sempre in quell'ambito non è che mi muovo molto da questo facciamo un altro esempio diciamo che questo nostro assistito che risponde di un reato a citazione diretta perché praticamente rivestiva la qualità di amministratore di una società imputato di bancarotta semplice perché se no si passa per l'udienza preliminare ricopriva una certa qualità in un certo periodo e conseguentemente doveva risultare tenutario delle scritture contabili bancarotta semplice documentale c'è stata difficoltà nel ricostruire il patrimonio degli affari di questa società esempio banalissimo noi abbiamo la visura camerale con la quale diciamo che in quel periodo ancora doveva assumere la carica di sindaco della società perché è una società particolare e la produciamo e indichiamo quattro testimoni utili a dire che è subentrato in un periodo successivo alla dismissione ad altri delle scritture contabili ora un giudice del predibattimento se non vogliamo rendere vuota di contenuti questa udienza camerale che è partecipata e impone la presenza del difensore questa circostanza sarà in grado di valorizzarla se non gliela poniamo a disposizione altrimenti se vogliamo fare quello che è stata l'udienza preliminare fino a ieri perché oggi avrebbe dei contenuti più grandi l'udienza predibattimentale risulterà un mero passaggio di carte io non sono molto fiducioso che non avverrà questo però siccome lo spirito della norma è questo noi speriamo che non accada questo certo su un giudice del predibattimento ad esempio due sono seduti alla mia sinistra che valuta anche il fascino del pubblico ministero con l'esperienza che hanno io sono certo che emetteranno delle sentenze che diranno che il processo non deve essere fatto però questo è un discorso che non può essere assolutamente generalizzato e ribadisco la circostanza che si tratti di giudici di sezioni diverse secondo me è un fatto che è ineludibile su questo la Camera Penale di Roma si batterà devo essere rapido per forza anche se parlerei ora di questa riforma cartabbia ma dico ci sono altre due persone che devono intervenire entro le 5 un dato molto importante che è quello relativo alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale allora io sono uno di quelli che ma poi leggete le considerazioni che ho fatto in questo scritto che quando si si no tieni te la do già poi comunque ne ho portate due una per una due e questa è bene così ce l'avete tutte lei già gliel'ho data se le studiate ve le attentamente pure una al professor Spanger ma lui lui è un mio lui è un mio docente quindi io rimango sempre affascinato da quello che dice lei quindi anche se sono diventato anziano anch'io professor Spanger quindi voglio dire comunque quando è stata quando è stata emessa la sentenza a Bairami di cui abbiamo parlato poco anzi siamo tutti un pochino diciamo balsati sulla sedia perché lo dicevo lo dico con grande serenità mutava il collegio eravamo tutti contenti e poi succedeva quello che non deve succedere perché per dare una effettiva dignità alla funzione difensiva non si può pretendere che venga il testimone a dire conferma conferma cioè quantomeno ha chiesto l'esame e in particolare se sei subentrato alla difesa perché magari qualche idea di più o di meno di chi ti ha preceduto ce l'hai quindi rendere dignitosa quella norma come era strutturata l'articolo 525 la presidente dice è un problema di memoria così non ci sento dare modo fisiologica però anche qui a distanza di 6 anni per capire la Bairami se non si conosce la psicologia della testimonianza certo però insomma diciamo che in generale la Bairami dava prima della Bairami si è abusato di quella norma in qualche occasione oggi avete tante possibilità c'erano anche prima della della riforma cartabbia noi potevamo indicare nuovi temi di prova noi potevamo rappresentare al tribunale in questo devo dire che c'è stata una disponibilità del giudice diverso a risentire un 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 testimone che era stato ascoltato certo se noi andiamo in aula e diciamo semplicemente voglio risentire Cesare Gai perché ritengo che questo testimone ma non motiviamo adeguatamente la necessità di riascoltarlo magari su un tema di prova diverso che non è stato adeguatamente coltivato nella precedente testimonianza allora diciamo essendovi la disponibilità di ascoltare i testimoni dico si poteva anche strutturare meglio quella norma oggi addirittura voi sapete che però questo sarà possibile solamente dal giugno del 2023 c'è la possibilità di chiedere la videoregistrazione delle testimonianze l'altro giorno un processo è stato rinviato con un collegio precario perché io dovevo sentire sette testimoni del pubblico ministero per un processo di violenza sessuale e mi sono fermamente opposto a che venisse celebrata quel giorno quell'udienza con un collegio precario ho detto altrimenti voi attivate ed eravamo in un'aula che poteva essere fruita per questo attuate la videoregistrazione perché chi vi seguirà almeno avrà la possibilità di vedere la testimonianza la mimica facciale c'era anche la persona offesa le eventuali contraddizioni che non possono emergere da un verbale fonotrascritto nemmeno da un verbale che in qualche modo viene anche registrato su cassetta quindi si possono sentire e devo dire che il tribunale questa disponibilità l'ha avuta immediatamente certamente si trattava di un procedimento con una persona a piede libero altrimenti non l'avrebbero avuta ma in qualche modo ha dimostrato di essere sensibile alle esigenze difensive e sono particolarmente sensibili alle esigenze difensive se in modo adeguato queste esigenze difensive vengono motivate questo voglio dire al difensore strutturato un altro aspetto che mi preme sottolineare è che finora non si è detto è che le sanzioni sostitutive tanto neglette in realtà rappresentano un'opzione anche per altri aspetti perché non dobbiamo mai dimenticare e questo il difensore del dibattimento non se lo deve dimenticare che il processo penale si affronta con un minimo di lealtà personale e nei confronti di chi ci affida la sua vita su quello che può essere l'effetto prognostico del dibattimento cioè che cosa accade alla fine cioè a cosa andiamo incontro e su questo dobbiamo essere in grado di rappresentarlo poi non è detto che siamo infallibili possiamo pensare che una persona venga assolta e non lo sarà però in generale ci possono capitare queste cose le sanzioni sostitutive ad esempio non sono incompatibili con le disposizioni di cui è l'articolo 656 del codice di procedura penale perché non sono state inserite tra i delitti per i quali mi corregga professor Spanger se sbaglio ma sono incompatibili con il 4 bis ma ci sono una sequela di delitti che sono compresi nel comma 9 se non sbaglio dell'articolo 656 per il quale una volta divenuta definitiva la sentenza non sarebbe possibile sospendere l'esecuzione ovviamente non sia concessa la sospensione condizionale della pena la sanzione sostitutiva in qualche modo elimina questo problema e faccio l'esempio dell'incendio boschivo che un'estate siccome è andata un pochino a fuoco la Sardegna hanno deciso che era un reato ostativo alla sospensione dell'esecuzione o il furto in abitazione altra ipotesi di reato prevista nell'articolo 656 particolarmente ricorrente e che consente invece di applicare le sanzioni sostitutive dove uno patteggi o arrivi ad una pena con il rito abbreviato che consenta la conversione definiamola così perché non ci dimentichiamo che le sanzioni sostitutive previste oggi dalla riforma cartabbia risalgono anche se in diversa declinazione addirittura ad una legge che è la 689 dell'81 1981 prima addirittura della riforma del codice di procedura penale dove erano previste la semidetensione perché così si chiamava la libertà controllata in luogo delle pene che se non sbaglio arrivavano fino a un anno o fino a sei mesi e la pena pecuniare in sostituzione della due anni un anno e sei mesi la pena pecuniare in sostituzione della pena detentiva quindi il nostro legislatore era sensibile a questa possibilità che oggi ha incentivato cioè sono tutte riflessioni che il il valido difensore deve fare e questo implica la necessità di avere un contatto pulito e costante con il proprio difensore io mi permetto di sottolineare questo la riforma cartabbia è una riforma per ricchi cioè per un processo penale continua ad essere un processo per ricchi e questo purtroppo è una sconfitta del processo penale perché a essere particolarmente mortificati nelle loro aspettative da queste riforme saranno gli ultimi cioè quelli che non potranno avere i contatti con il loro difensore per poter rilasciare la procura speciale quelli che non avranno la possibilità di partecipare al processo e saranno dichiarati assenti quelli che non hanno la possibilità di fornire delle disponibilità per l'applicazione delle sanzioni sostitutive e in questo siamo perdenti rispetto a quello che ci veniva imposta dalla legge e dalla necessità di adeguarci a quello che ci veniva richiesto cioè noi abbiamo sacrificato attraverso l'introduzione di certi istituti quella che poteva essere una benevola valutazione di quelli che sono gli effetti di una condanna rispetto a delle esigenze di celerità che poi in concreto vengono mortificate da da quello che accadrà quotidianamente nei tribunali cioè nel momento in cui una persona verrà nei confronti di una persona verrà disposto dal predibattimento la necessità di svolgere un processo non pensate che il processo seguirà delle declinazioni e dei tempi completamente differenti a meno che l'udienza predibattimentale non funzionerà come l'hanno astrettamente prevista qualcuno che nelle aule di giustizia sicuramente non ci ha mai messo piede perché questo è anche un'altra realtà perché gli intenti sono buoni ma poi bisognerebbe entrare per una settimana al tribunale di Roma e rendersi conto che forse questi intenti tali restano perché non possono essere concretizzati nella loro realtà altri eh altri dati importanti eh nel dibattimento oggi la la circostanza che nell'udienza predibattimentale possano essere sollevate delle questioni preliminari di una certa importanza hanno dei riflessi eh fondamentali prima si è accennato brevemente al discorso della competenza territoriale considerate che nel dibattimento a citazione diretta a giudizio vengono mutuate tutte quelle eh cadenze processuali che sono proprie dell'udienza preliminare che troverete negli articoli da 21 a 27 del codice di procedura penale l'eccezione di incompetenza territoriale può essere fatta una sola volta quindi viene negato sostanzialmente la possibilità di riproporla in dibattimento laddove non sia stata fatta all'udienza preliminare una volta decisa all'udienza preliminare immediatamente o all'udienza predibattimentale immediatamente il difensore deve chiedere che sia vagliata dalla corte di cassazione appena di decadenza perché dopo non può essere riproposta nemmeno nei motivi di impugnazione e questo rappresenta un vulnus perché non è una eccezione di carattere assoluto le nullità al regime intermedio seguono la stessa disciplina quanto viene rappresentato in ordine alla alla formazione della prova nella fase investigativa quindi le eventuali inutilizzabilità che possono essere fatte valere nel corso dell'udienza predibattimentale quindi rendendola in qualche modo veramente completa di contenuti questa udienza predibattimentale che richiede un esame pari a quella dibattimentale di discussione può diventare qualcosa di importante mi faccio una domanda un giudice può con un giudizio prognostico ad esempio e faccio un esempio banale valorizzare la circostanza che è stata resa una testimonianza non assistita da un soggetto che doveva essere indagato fin da lì faccio un esempio più banale l'articolo 63 del codice di procedura penale al fascicolo del pubblico ministero io ho commesso un furto insieme al professor Spanger ovviamente al professor Spanger non l'hanno indagato e a me sì è stato più bravo lui e hanno assunto delle dichiarazioni dal professor Spanger che doveva essere immediatamente indagato relativamente al reato di concorso in furto con me senza l'assistenza del difensore il giudice del predibattimento ha la dichiarazione io mi sono non ho parlato non ho detto niente ho detto comunque che non c'ero in quel momento ma la prova principe del reato che mi viene scritto sono le dichiarazioni del professor Spanger al giudice del predibattimento io questa questione che crea un vulnus aborigine della dichiarazione del professor Spanger che è inutilizzabile sotto tutti i profili nei confronti miei o nei confronti e nei confronti di altri la posso far valere qual è poi la valutazione che può fare il giudice del predibattimento rispetto al no certo che la posso far valere ma se gliela faccio valere adeguatamente e gliela rappresento guardi nell'ottica di svolgere un futuro dibattimento questo per rendere sì però voglio dire una cosa se uno non rappresenta queste circostanze al giudice del predibattimento il giudice del predibattimento il processo lo passa al giudice del dibattimento e tu ti fai otto udienze prima di dire che la dichiarazione del professor Spanger non vale nulla è questo che dobbiamo in qualche modo rappresentare noi diciamo siamo di fronte a delle innovazioni importanti io vi ho scritto quello che penso su determinati aspetti della riforma e in particolare ho fatto un vademecum delle singole norme che riguardano il dibattimento vi ho rubato anche troppo tempo combattiamo studiamo rendiamogli la vita difficile sia a loro che alla cartabbia ringraziamo ringrazio Cesare Gai soprattutto perché a più volte è detto l'avvocato più strutturato o strutturata e questo è l'avvocato penalista di sempre e forse ritorneranno in altri libri invece chi non è particolarmente strutturato e che pensa che il penale per il suo fatto no quindi ritorniamo invece a un avvocato penalista qualificato che poi ha una doppia anima come abbiamo detto più squisitamente puro penalista e più invece da misure alternative da percorsi alternativi ma questi entrambi che servono per la giustizia penale e questo secondo me è un punto che grazie al tuo intervento possiamo focalizzare quindi il fatto che sia serva ancora più strutturato ancora più raffinato secondo me è semplicemente un miglioramento a cui possiamo tendere e adesso Dulcis in fundo Federica Federici presidente di Nuove Frenti del Diritto io l'ho sentita già su questo argomento sulla digitalizzazione del processo penale telematico ripeto anche qui adesso riprendiamo il discorso Marco Gabriele non solo come presidente di AICA ma anche come componente della commissione di diritto penale dell'ordine di Roma di Avvocati di Roma qui dobbiamo andare di corsa perché una delle migliorie che porta è il processo telematico cioè il fascicolo digitale il fascicolo telematico quindi o lo facciamo adesso oppure già all'ibrido io ormai ho questo problema siamo tornati indietro cioè io ho dovuto mandare due plichi per depositare un ricorso in Cassazione avverso una sentenza di una corte appello di Venezia e avverso una sentenza del primo grado dell'Aquila perché? perché non essendoci l'ufficio impugnazione fuori sede perché quello ormai l'hanno tolto se depositi il telematico comunque devi depositare il cartaceo e allora siccome cosa fatta capo A per quanto mi riguarda l'organizzazione della mia vita ha detto perché dove rimanere con questo a parte che in Cassazione poi non le possiamo depositare proprio più perché quindi poi arriveranno i diritti che ti arriva dalla cancelleria ma perché io il cittadino mi ha assistito devo far pagare delle spese aggiuntive che sono 50 che sono 300 e questo non è da poco perché c'è parliamo in termini proprio di completezza di quello che noi facciamo allora questo ci aspettiamo professore una circolare interpretativa da parte delle eh no buonanotte eh no però voglio dire ci aiutano no per carità esatto ma anche perché se noi non dobbiamo andare verso il deposito transizione ecologica e tutto il deposito digitale noi dobbiamo depositare a mezzo PEC punto non capisco più l'utilizzo la necessità di depositare il cartaceo a che cosa serve se la notifica deve essere fatta a mezzo PEC se noi ci arrivano a mezzo PEC quindi è da brogare cioè che poi tra l'altro è stato già abrogato poi è risuscitato vi racconto solo così per concludere questi momenti drammatici no che io vivo come avvocatura sono andato a fare un fascicolo al 415 bis l'altro giorno sono stato tre ore perché erano 21 ma è un problema tuo perché 415 bis io chiedo copia integrale delle mani erano 21 mila pagine poi 21 mila pagine secondo quello che ho detto poca anzi me le dovrei quantomeno non dico tutte perché non ci riuscirei mai però un pochino leggere quindi avevo fatto una bella una bella selezione delle pagine che avevo deciso riducendo da 21 mila a 2000 che già diventano una cosa c'è un minuto che devi parlare Federica e Federici è certo ma visto che parlate del digitale parlate del digitale ovviamente spingo il bottoncino dove c'è scritto la copia cartacea perché ho detto poi me le devo stampare per leggere perché io non riesco ancora ad adeguarmi a questa cosa antico arrivo per pagare i diritti e mi dicono no ma noi più di 300 pagine non le possiamo stampare va bene posso modificare la mia richiesta in formato elettronico no perché il sistema non lo consente va bene allora dico mi riprendo la cosa e i file che ho individuato li riscrivo li risegno solamente che quando sono arrivato a un certo punto e questo è allucinante per il processo telematico non funziona questa cosa arrivo a un certo punto di un pdf che conteneva praticamente tutto c'erano i puntini dopo pagina 1200 dico va bene ma riuscirò a recuperare quello che avevo richiesto e selezionato no assolutamente deve riguardare che di copia integrale da remoto così arriva tutto perfettamente in linea e siamo tutti felici Federica Federici a te grazie per la pazienza grazie a tutti ringrazio Irma e il consiglio per avermi voluto è vero Irma mi ha accoptato sentendo questo mio intervento solo che adesso dovrò ridurlo proprio all'osso e come componente della commissione informatica in epoca pandemica ho fatto già un primo intervento sul processo penale telematico sono passati 4 anni ne avevo fatti almeno una ventina e mi sembra la preistoria 3 o 4 anni fa in realtà oggi con la riforma cartabia non abbiamo più scuse perché comunque il fascicolo telematico sarà l'unico fascicolo che stante anche la disciplina transitoria che oggi avevo preparato un bel intervento ma mi ha egregiamente preceduto la dottoressa Roia non è immediata ma sicuramente è la direzione in cui stiamo andando quindi noi stiamo al di là della riforma cartabia andando verso uno scenario di avvocato digitale che quindi comprende l'aspetto informatico e l'aspetto analogico quindi l'avvocato digitale che richiede delle conoscenze delle capacità che per quante resistenze vogliamo fare dobbiamo assolutamente armarci e imparare a fare questo i civilisti lo hanno passato prima di noi e adesso tocca a noi dobbiamo dare il massimo ovviamente l'avvocato digitale riguarda il mondo dell'e-justice in generale ci chiama siamo chiamati praticamente a depositare formare insieme alle cancellerie quindi aiutare a formare fascicoli telematici sapere cosa significa sottoscriverli datarli come datarli ma soprattutto distinguere il documento informatico da quello analogico e molto spesso questo gli avvocati non sanno neanche che differenza c'è in realtà gli articoli che la riforma porta dal 110 in poi sono fondamentali perché in qualche modo riguardano la formazione del fascicolo che è forma e sottoscrizione e datazione riguardano il deposito e poi un'altra parte della riforma riguarda le notifiche a mezzo PEC e le comunicazioni degli atti giudiziari queste sono le quattro aree che noi dobbiamo imparare quindi adesso vi darò dei piccoli diciamo cenni il documento informatico è quello che nasce per natura informatico quindi ad esempio un atto nativo digitale che noi sottoscriviamo con la nostra firma la cancelleria lo riceve lo riceve con la nostra firma quindi è un documento informatico a tutti gli effetti non può essere un documento informatico una memoria scritta da un detenuto a proprie mani quello è un documento analogico come un testamento una planimetria un referto medico o anche le scritture dei pubblici ufficiali e quindi scritture private e atti di pubblici ufficiali che hanno bisogno di essere trasformati in documento informatico senza tediarvi il documento informatico è descritto e diciamo definito dall'articolo dal codice dell'amministrazione digitale e dice proprio che è un documento elettronico che contiene nella rappresentazione informatica di atti fatti o dati giuridicamente rilevanti ma nascono informatici sono documenti che nascono già supportati da una scrittura e una codificazione di tipo informatico il documento analogico è una rappresentazione uno screenshot una foto quindi noi abbiamo da depositare gli atti nativi che nascono digitali sottoscritti digitalmente o anche attestando nell'autenticità di chi dovrebbe sottoscriverli e li depositiamo in quel modo gli analogici noi li depositeremo datandoli sottoscrivendoli se è possibile se non è possibile sottoscrivere autenticando semplicemente l'identità della persona che ci ha dato quel documento pensiamo a una prova a una dichiarazione di qualcuno presso i nostri studi dobbiamo datarli sottoscriverli esistono una serie di requisiti che la riforma prevede che vanno dalla segretezza alla genuinità all'autenticità all'autenticità anche di sapere chi è il mittente e quant'altro tutti i criteri che leggerete dagli articoli 110 111 bis 111 ter e senza indugio dice la riforma le cancellerie dovranno formare il fascicolo telematico convertendo i documenti analogici in informatici e facendo confluire tutto in un unico fascicolo digitale nasce una bidirezionalità nasce un avvocato utente a tutti gli effetti degli strumenti che metteranno a disposizione il ministero ma l'importante è perché noi siamo esposti a delle responsabilità a saper distinguere quello che possiamo sottoscrivere da quello che non possiamo sottoscrivere e in qualche modo verrà formato dagli uffici giudiziari a quello che possiamo dare ingresso successivamente il fascicolo telematico sarà unico e non ce ne saranno altri è ovvio che ci sono delle formule con cui la legge dice salvo che non vengono previste altrimenti salvo che la legge non disponga altrimenti ma di fatto noi stiamo andando verso un unico scenario di questo fascicolo telematico quindi dobbiamo imparare la sottoscrizione la formazione la datazione e poi dobbiamo anche imparare a capire come depositare e quando depositare su questo la riforma è chiara l'accettazione del deposito deve avvenire entro le 23.59 quindi non possiamo fare il deposito alle 23.59 noi dobbiamo garantirci l'accettazione del nostro deposito entro quell'orario quindi l'avvenuta accettazione da parte del sistema di quello che andiamo a depositare quindi non ci improvvisiamo in questo sposo pienamente ciò che diceva Cesare ma anche sotto il profilo di questa nostra fare informatici a studio per quanto riguarda il fascicolo telematico che sarà oggetto di una serie di implementazioni è ovvio che noi saremo alla mercè di quello che sono le risorse che la nostra giustizia ci mette a disposizione quindi si prevedono tempi a geometria variabile a seconda dei fori a seconda delle cancellerie a seconda del tipo di come si strutturerà anche il ministero certo è che comunque ormai il requiem per la nostra vita di avvocati digitali ormai è scandito per quanto riguarda e quindi le norme che vi invito ad andare a vedere sono la 110 e il 111 fino al Bisse e il Ter c'è e qua non abbiamo tempo oggi mi dispiace però lascio un documento a dirma un approfondimento sulla restituzione in termini di cui parlava anche la dottoressa Roia perché sicuramente le utilizzeremo il 175 della riforma prevede cosa succede in caso di malfunzionamento dei sistemi prevede due tipi di malfunzionamenti quelli generalizzati documentati certificati dal DGSIA e quelli invece più localizzati più circoscritti magari al foro di Roma o a una semplice cancelleria o a un semplice diciamo giudizio e in entrambi i casi noi abbiamo la possibilità di essere rimessi in termini con tutta una serie di accorgimenti che troverete nell'articolo 175 su questo avrei voluto parlare di più ma non è possibile per quanto riguarda invece le notificazioni allora intanto io consiglio di modificare subito la nostra procura non solo con tutti i riti alternativi pene sostitutive ma mettendo il domicilio digitale della persona che noi assistiamo perché io ho avuto già le mie prime mortificazioni una preliminare due o tre giorni fa dove mi volevo costituire parte civile ma non ho avuto tempo perché sono persona offesa io come commissario del MEF e il ministero è in ritardo sul darmi tutta una serie documenti non ero in grado di costituirmi e ho chiesto un invio ho trovato una buonanima di giudice che me lo ha concesso di qualche mese perché comunque altrimenti non avrei potuto più costituirmi idem l'abbreviato che ho dovuto scegliere eravamo tanti imputati non ho potuto scegliere una linea difensiva diversa il giudice ha cercato di uniformarle tutta adesso non ho più un assistito un assistito la sua famiglia e la famiglia allargata che mi chiama tutti i giorni per capire perché siamo andati verso un abbreviviato come una sorta di ammissione di colpevolezza che loro non volevano assolutamente approfondire quindi noi abbiamo la formazione il deposito degli atti e le notifiche e le comunicazioni a mezzo PEC ormai esiste il domicilio digitale di cui si deve dotare il nostro assistito altrimenti ci siamo noi come avvocati che va indicato e le notifiche devono avvenire tutte a mezzo diciamo di domicilio digitale gli articoli vanno dal 148 in poi quindi si va dall'imputato all'imputato detenuto fino alla persona offesa al querelante alle parti civili e quant'altro ma il fil rouge di tutte queste norme è comunque quello che si deve cercare e tentare in tutti i modi di notificare a mezzo PEC e quindi comunque al domicilio digitale quindi su questo dobbiamo in qualche modo anche noi perché non credo che saremo pronti tutti dall'oggi al domani sulla disciplina transitoria eventualmente tanto la potete leggere tranquillamente è importante perché la disponibilità delle risorse della giustizia è eterogenea anche all'interno dello stesso tribunale quindi è oggettivo le difficoltà che avremo noi avvocati perché comunque bisognerà strutturarsi bisognerà diciamo in qualche modo prendere le armi per fare questa guerra quindi in qualche modo la transizione digitale si accompagnerà ma anche al regime transitorio la cosa che è importante di dire del regime transitorio è che l'implementazione tecnologica è già iniziata con la normativa emergenziale perché in qualche modo già si era andati verso questo scenario con le udienze da remoto e quant'altro è ovvio che adesso si chiede un intervento imponente affinché noi possiamo in qualche modo seguire tutte queste norme che vi ho elencato tipo ricettario e me ne scuso per poter in qualche modo non esporci a responsabilità professionali perché in qualche modo noi vocati siamo sicuramente meno diciamo difesi in questo da quelle che sono le limitazioni che la tecnologia ci offre io ho ascoltato attentamente tutte le relazioni quelle della dottoressa Roia mi premeva particolarmente ascoltarle perché le sue sentenze io ho due sentenze sue una a mio favore una a mio sfavore che faccio leggere a tutti i collaboratori quando iniziano il mio percorso a studio e in quella dove sono stata perdente ho sollevato anche una questione di costituzionalità quindi per dire che do ragione a lei quando ha citato Calvino il tempo purtroppo la tecnologia va rapida la tecnologia è schizofrenica quindi coniugare le esigenze di tempo di qualità di giustizia con delle risorse che ci danno velocità io mi auguro che in questo mix ci struttureremo soprattutto per quelle che sono le notifiche i depositi questi strumenti che non ci servono come avvocati e un pochino meno quelli che vanno a sacrificare le esigenze degli imputati e di giustizia e le garanzie perché comunque il sacrificio c'è e io vedo e qua concludo anche qualche frizione con la normativa grazie 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 Federica e grazie a Federica Federici un'altra questione è PADES o CADES gli atti li firmiamo PADES o CADES adesso abbiamo appreso di una di un piccolo problema sull'apertura dei file firmati in CADES che è in fase di risoluzione quindi c'è un qualcosa c'è una fase di assestamento però lo stiamo monitorando e lo stiamo tra l'altro anche sollecitando tra l'altro c'è stata una riunione il 27 c'è stato il consigliere Lepri saprete ve lo divulgheremo a breve perché tramite il Telegram un applicativo insomma vorremmo comunicare in tempo reale l'andamento dell'udienza e quindi anche quello è importante sempre qui la commissione avevamo pensato ad un'app però pensare ad un'app per 25.000 avvocati diventa impegnativo e quindi invece forse con un'applicazione di questi social di queste piattaforme potremmo dare in tempo reale grazie anche qui alla collaborazione del personale amministrativo lo svolgimento dell'udienza e quindi vuol dire che voi non ci avrete 30 persone in udienza devo dire che dopo la pandemia questo non accade più neanche al monocratico perché con la pubblicazione dei ruoli e con l'organizzazione adesso dell'udienza in fasce orarie vi arrivano già i decreti di citazione che la procura fa emettere con l'orario quello è stato un percorso direi sofferto da parte di tutti ma che abbiamo portato poi a termine camera penale ordine tribunale e personale amministrativo più creiamo le condizioni migliori e più lavoriamo bene tutti quanti quindi questo è sicuro Marco Gabriele a te un flash per concludere permesso che l'avvocato Marco Gabriele come presidente dell'Aiga e come componente della commissione della commissione penale concludere anche la prossima e anche l'altra ancora e quindi diamo anche l'appuntamento al 5 al 5 no un flash velocissimo anche perché insomma le conclusioni dopo questi relatori sono molto difficili devo dire che intanto Irma come primo evento della commissione penale ha avuto un grande successo perché la partecipazione è nutrita questo però dimostra anche quanto sia importante questa riforma perché ovviamente i colleghi ci siamo tutti resi conto che è un intervento un intervento sistematico per la prima volta noi anni fa eravamo contro i vari interventi parlavano di riforme ricorderete riforma Orlando le riforme erano interventi a singhiozzo questa invece è una riforma vera e propria una riforma sistematica credo che la sintesi possa essere questa in questa riforma convivono due anime tra chi non è mai entrato nelle aree di giustizia così mi sembra di poter dire quindi forse un impulso finalizzato esclusivamente a andare al dunque e chi viceversa figure sapienti hanno in qualche modo cercato di indirizzare gli interventi correttivi la sintesi di queste due anime ha portato a questa riforma dico che a mio modo di vedere la mentre il professor Spanger diciamo in qualche modo ha cercato di darci un approccio partendo da la ricerca del senso di questa riforma cioè noi la riforma deve essere vista secondo questa ottica un po' partendo dalla razio abbiamo sentito la presidente Roia che viceversa ha in qualche modo smantellato ha parlato di una deriva e me lo sono segnato perché è molto interessante di una deriva produttiva di questa riforma andando a evidenziare le criticità la sintesi credo che si potrà fare e tracciare solo fra qualche anno quello che è certo è che a mio modo di vedere noi rischiamo ma questo lo sa meglio di me il professor Spangher e gli altri relatori se non in qualche modo ottimizziamo il procedimento penale il procedimento inteso anche come contenitore del processo rischiamo che fra qualche anno ci tolgano il grado di appello il professor credo che sia questo quindi se da un lato capisco quello che dice la presidente Roia e in parte lo condivido però a fronte di questo rischio enorme io credo che ottimizzare il procedimento e la fase processuale sia necessario avvocati preparati come diceva l'amico Cesare Gai o Federica o gli altri relatori che sono intervenuti è fondamentale perché un avvocato preparato specializzato deve essere non solo il presente e il futuro ma dovrebbe essere il passato perché abbandoniamo la filosofia dell'avvocato penalista che dice aspetto il 415 bis e con i rinvii arriviamo alla prescrizione questa è una cosa che appartiene a un mondo che dobbiamo secondo me seppellire l'avvocato deve essere specializzato e sapere chirurgicamente come muoversi dunque rimettiamo penso a questo punto al futuro ogni conclusione ringrazio tutti i relatori Irma grazie a te per l'evento l'appuntamento quindi è al 5 aprile e poi all'11 aprile sempre stesso orario con consigliere Vincenzo Gommi e Marco Levi grazie a tutti